Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Insieme recitiamo l'Azumus. Signore, siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel Tuo nome, con Te solo a guidarci. Fa che Tu sia di casa nei nostri cuori. Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. Siamo deboli e peccatori. Non lasciare che promuoviamo il disordine. Non lasciare che l'ignoranza ci porti sulla strada sbagliata, né che la parzialità influenzi le nostre azioni. Fa che troviamo in Te la nostra unità, affinché sappiamo camminare insieme verso la vita eterna e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto. Tutto questo chiediamo a Te, che sei all'opera in ogni luogo e in ogni tempo, nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà, infatti, come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due ne guadagnò altri due. Colui, invece, che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo Signore, mi hai consegnato cinque talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco. Ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse Signore, mi hai consegnato due talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco. Ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse Signore, so che sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparsi. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose Servo malvagio e pigro. Tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro a banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a chi ha i dieci talenti perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre la sarà pianto e sidore di denti. Come tutti sappiamo il Concilio Vaticano II è stato un momento fondamentale nella storia della Chiesa in modo particolare per noi che stiamo vivendo questo tempo della storia e della storia della Chiesa. Con il Concilio Vaticano II cambia il modello di Chiesa che ci viene proposto e ci vengono dette delle cose che ci aiutano nella comprensione di Dio ma anche nella comprensione di noi stessi come Chiesa e come persone come cittadini come uomini come donne. Prima del Concilio Vaticano II l'idea di Chiesa prevalente era quella piramidale c'è il Papa ci sono i Cardinali ci sono gli Arcivescovi ci sono i Vescovi poi ci sono quelli coadiutori poi quelli ausiliari insomma c'era tutta una graduatoria anche nella stessa gerarchia poi c'erano i preti religiosi le religiose i consacrati le consacrate e quindi c'era anche il popolo di Dio uso ad obbedir tacendo come dicevano prima nella letteratura i dotti il Concilio Vaticano II ci dice che la Chiesa non è così il Concilio Vaticano II ci dice che Gesù l'aveva pensata diversamente la Chiesa e che forse Pietro e con lui gli altri si erano dimenticati del progetto di Chiesa che Gesù aveva immaginato che Gesù aveva pensato per cui ce la ripropone ce la ridice l'idea di Chiesa che Gesù aveva che è quella di una comunità certamente anche organizzata gerarchicamente ma una comunità in cui è fondamentale il Papa ma è fondamentale anche l'ultimo dei credenti è fondamentale ogni battezzato e questa Chiesa non deve solo guardarsi dentro ma deve anche aprirsi in modo missionario al mondo e nel documento che nel Vaticano II ci parla della Chiesa in rapporto al mondo contemporaneo e cioè la Gaudium et Spes in un passaggio ci viene detto che il Signore Gesù rivela fa l'uomo all'uomo perché chi lo segue Gesù l'uomo perfetto si fa anche lui più uomo e quindi guardando a Gesù che noi capiamo che noi capiamo chi siamo noi che noi capiamo chi è lui che noi capiamo chi è Dio che noi capiamo la nostra identità e la nostra missione e la nostra missione è quella dei servi la pagina del Vangelo di oggi si apre parlando di servi e noi siamo chiamati ad essere servi ma Gesù è stato il servo per eccellenza quello che ho fatto io imparate a farlo anche voi non sto qui a rifarvi tutta la teologia del servo ma credo che tutti quanti abbiate gli strumenti per andare a rivedere in che modo Gesù è stato servo e quindi anche in che modo noi siamo chiamati ad essere servi poi Gesù è stato lo sposo il Vangelo di ieri che ci parlava delle vergini ci ricorda che lui è lo sposo e noi siamo la sposa che la nostra identità ha a che fare con le nozze che la nostra identità ha a che fare con l'alleanza nuziale che la nostra identità è incomprensibile se usciamo da questo perimetro che è l'alleanza nuziale e poi Gesù ci dice che noi siamo pur amministratori ci promuove sul campo da semplici servi chiamati forse anche ad ubbidire ai comandi del padrone Gesù fa di ciascuno di noi degli amministratori e non degli amministratori da poco ma degli amministratori importanti voi lo sapete un talento sono circa 40 chili di oro quindi anche il servo che riceve di meno alla fine è amministratore di 40 chili di oro di una ricchezza incalcolabile pensate a chi di talenti ne riceve due pensate a chi di talenti ne riceve cinque questi talenti che noi abbiamo ricevuto li abbiamo ricevuti perché li traffichiamo io come uomo come prete come vescovo i sacerdoti che con me collaborano come uomini come sacerdoti come membri del consiglio episcopale ma ciascuno di voi secondo la propria vocazione e la propria missione ha ricevuto talenti e la nostra misura in ogni caso è colma il signore a ciascuno di noi ha dato i talenti che eravamo in grado di trafficare il nostro bicchiere la nostra misura è colma la nostra botte è piena non abbiamo bisogno di invidiare quello che hanno gli altri perché noi abbiamo il massimo possibile il massimo che potevamo anche semplicemente sognare diventando amministratori non dimenticando di essere servi e l'alleanza nuziale all'interno della quale siamo collocati dobbiamo trafficare questi talenti come se fossero nostri anche se li dovremo riconsegnare alla fine e li dobbiamo trafficare quindi in una logica di servizio e in una logica d'amore non semplicemente per fare soldi non semplicemente per aumentare la proprietà la ricchezza ma per servire e per amare ma questo lo faremo nella misura in cui nel nostro cuore abita un'idea di Dio e un'idea di Gesù buona se noi abbiamo un'idea sbagliata avremo un'idea sbagliata di Dio ma anche di Cristo ma anche di noi stessi l'ultimo servo quello che non riceve lodi ma riceve rimproveri quasi però nella logica del guai biblico come un dire mi dispiace per te che non hai capito niente questo è il tuo stridore di denti questo è la situazione brutta che tu stai vivendo nelle tenebre l'ultimo servo dicevo dice di Dio che sei duro io lo so che tu sei duro ma Dio non è duro Dio è amore Dio è misericordioso è pietoso è lento all'ira grande nell'amore Dio ama tanto ciascuno di noi e il mondo da dare suo figlio per la salvezza del mondo ma solo chi ama e chi serve conosce Dio ci dice San Giovanni quindi ecco impariamo a far tesoro della rivelazione di Dio impariamo a far tesoro come dicevamo ieri di ciò che l'ha tradizione e il magistero della chiesa ci offrono come interpretazione della rivelazione di Dio perché possiamo capire bene chi Dio è chi Cristo è e chi siamo noi ricordandoci che è Gesù che rivela l'uomo all'uomo e che seguendo lui l'uomo perfetto ci facciamo anche noi più uomini e più donne nel servizio e nell'amore grazie 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 a tutti. E sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. O Signore, Tu ci accetti così come siamo, e ci ami perché ci conosci per chi siamo veramente. Ci liberi e ci doni ancora la vita e la gioia di viverla, e ci dai la possibilità di codere con cuore allegro in mezzo ad essa, e di partecipare al banchetto del regno che viene. Donaci il tuo perdono, guida il nostro cammino, e rendici costruttori di giustizia e di pace. Per Cristo, nostro Signore. Benediciamo il Signore. Benediciamo il Signore. Buongiorno a tutti, c'è qualche faccia nuova rispetto a ieri, qualche faccia di meno rispetto a ieri, perché, come sempre capita, ci sono impegni che tengono via alcune persone da questo incontro molto importante per la nostra Chiesa locale, che all'inizio di ogni anno pastorale realizziamo insieme. Ieri, purtroppo, abbiamo subito la mancanza del collegamento con Monsignor Repole, per problemi inerenti a lui, e comunque ci ha detto che sicuramente ci garantirà una presenza durante quest'anno, che cercheremo di sfruttare al meglio, comunicandovela per tempo, in modo tale che tutti possiamo approfittarne della sua presenza, perché, come vi dicevo ieri, è un giovanissimo Vescovo, ma è anche un insigne teologo, quindi ci può aiutare in modo diversificato, diciamo così. Ha anche cominciato a scrivere qualche piccola cosina, come Vescovo, una lettera pastorale, un altro piccolo documento, molto breve, non come a volte facciamo noi Vescovi, che facciamo tutti i volumi quando bisogna scrivere le lettere pastorali. Lui ha fatto qualcosa di molto essenziale e che forse ci potrebbe anche essere utile. Poi ho cercato di introdurvi alle linee guida che sono state realizzate per questo terzo anno del Sinodo, l'anno della seconda fase, quella sapienziale, quella che ha come caratteristica il discernimento. Dopo i due anni della fase narrativa e prima della fase profetica che vivremo il prossimo anno 24-25. Io mi sono soffermato in modo particolare nella prima parte, perché poi più tardi, nella mattinata, Alessio ci presenterà meglio la seconda parte. Questa mattina insieme con Alessio ascolteremo da Don Carmine la presentazione dell'agenda pastorale per quello che fino ad oggi è stato possibile approntare. A volte ci sono le date, non ci sono i relatori, a volte ci sono altri piccoli rimandi, però abbiamo già un canovaccio, una linea guida che possiamo subito fare nostra anche per prepararci ad alcuni appuntamenti e non mancarli, perché poi capita che uno ti dice ma mi ero preso questo impegno nella mia vecchia parrocchia, dico sì però è un anno che sai che oggi e domani, cioè ieri e oggi, avevamo l'assemblea diocesana. Se ti vuoi prendere un impegno con la tua vecchia parrocchia te lo prendi in un altro giorno, non quando c'è l'assemblea diocesana o quando ci saranno gli appuntamenti, perché tutti noi abbiamo appuntamenti, ma dobbiamo fare anche una gerarchia di priorità nella nostra vita, una gerarchia valoriale. Ecco quindi Don Carmine ci presenterà le linee per quanto si è potuto tracciarle fino ad oggi dell'agenda pastorale, ma soprattutto la mattina la apriremo con un intervento di Don Angelo che ci ripresenta i lavori che avete fatto ieri in modo sinodale nelle cinque zone pastorali che contraddistinguono la nostra diocesi. Ringrazio voi che ieri avete lavorato, ringrazio in modo particolare chi ha stilato il frutto dei lavori e ringrazio lui che in brevissimo tempo, da ieri sera, tardi fino a stamattina, ha potuto lavorare su quanto espresso e che stamattina ci verrà ripresentato. Ovviamente proprio nella logica del sinodo, anche stamattina, non mancherà per voi la possibilità di intervenire. E quindi non perdo ulteriore tempo, passo la parola a Don Angelo per il suo intervento. Grazie. Quest'anno io non ho fatto un lavoro, cioè quello di seminare e raccogliere i ceci, cosa che normalmente faccio tutti gli anni e non c'è che stai dicendo, perché parti dai ceci, perché mi veniva in mente questa cosa mentre leggevo le sintesi che ieri avete elaborato nei vari gruppi, il vostro lavoro che è emerso ieri. Mi mancava proprio questa immagine che, ripeto, quest'anno fisicamente non ho potuto compiere, ma che è evocativa, nel senso che in genere quando si raccolgono i ceci, o almeno si fa questa cosa manualmente, poi oggi sono i macchinari che, insomma, svolgono questo lavoro in maniera indolore, rapida e soprattutto senza fatica. è un lavoraccio perché bisogna prendere i ceci, raccoglierli, metterli su un telo, poi sbatterli con qualcuno annuisce, quindi mi fa piacere che non sto raccontando cose dell'altro mondo. E poi bisogna raccogliere questi con Charlie, con il setaccio. Ecco. Beh, d'altra parte, il lavoro del sinodo è questo, no? E quindi è un lavoro lungo, che a un certo punto ti stanchi, ti dici ma non si arriva mai alla fine, no? E ci sta sempre quel pezzo di, come si dice, di buccia che sta lì, rimane lì e non riesci mai a toglierlo. È un po' simile questo lavoro del sinodo, perché in effetti ogni volta che ci raduniamo per fare un tavolo sinodale e che raccogliamo delle informazioni, le scriviamo su dei fogli, le consegniamo, le sottoponiamo quindi al setaccio, diciamo così, e sì, il lavoro sembra lungo, che questo obiettivo non si raggiunga mai, però invece ogni volta che facciamo questo emergono sempre più degli elementi positivi che vale la pena raccogliere, no? È opportuno raccogliere. E quindi permettetemi di aprire proprio con questa immagine per descrivere anche il lavoro che in questi anni stiamo compiendo tutti insieme. Non è un lavoro solo di qualcuno, ma è veramente un lavoro di una chiesa, di una comunità intera. Quindi abbiate anche pazienza se i frutti di questo lavoro non sono particolarmente visibili al momento, non sono così chiari, evidenti, sembra non cambiare nulla nelle nostre realtà o nelle decisioni che in qualche modo possono essere poi prese. Ecco, abbiate pazienza per... Scusate, ma io sto sprofondando in continuazione. Questa sedia è un po'... E qui l'economo dovrebbe investire. Fra poco parliamo. Ah, grazie. Magari il generale può suggerire. Scusatemi, eh. Sperando che sia meglio. Speriamo. Vabbè, mi accontro. Ah, no, 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 un'altra storia. E quindi, ecco, veramente permettetemi di utilizzare questa immagine per dire che c'è un lavoro progressivo, graduale, che richiede sicuramente tempo e che allo stesso tempo permette di raccogliere degli elementi utili. E io, in maniera molto semplice, poi il tempo che ho dedicato a questo lavoro in effetti non è stato tantissimo e, ahimè, contro proprio lo stile sinodale l'ho fatto anche da solo. Quindi questa cosa ha dei limiti pazzeschi che chiaramente... Tenetene conto, ecco. Tenete conto anche che, utilizzerò un po' di ironia, non vi scompiscerete le risate, tranquilli, però un po' di ironia ce l'ho messa anche un po' per sdrammatizzare in qualche modo alcune cose che a volte in effetti sono anche un po' pesanti. E niente, io proprio rielaborando un po' tutto il lavoro che ieri avete svolto nelle zone pastorali, nei gruppi, nei cinque gruppi che avete costituito in base alle zone pastorali, sicuramente ormai in maniera più prepotente emergono delle vie, si intravedono delle strade, delle vie, come dire, sicuramente degli indirizzi da approfondire. Io non voglio dire soluzioni perché non me la sento di prendervi in giro. Delle vie, chiamiamole così, delle strade che aprono rispetto a un nero, a un muro che costatando la situazione attuale invece può emergere, mettersi davanti agli occhi. queste strade chiaramente io ora ho questa strada perché questo elemento sarà un po' il filo conduttore di tutto quello che vi dirò fra poco, chiaramente poi deve essere sottoposto a una verifica e ci dobbiamo lavorare sul serio ecco nel corso di quest'anno pastorale. Premetto un'altra cosa, questi convegni non li facciamo perché non abbiamo nulla da fare a settembre, cioè tenetene conto nella programmazione pastorale, nelle scelte che bisogna fare in parrocchia, tenete conto di quello che in qualche modo emerge da tutto questo, cioè cortesia, veramente c'è tanto da fare, certamente non vogliamo né rovinarvi le giornate né rovinarcele. vorrei un po' seguire quello che è stato quella che è stata la pista delle domande poi diversificate appunto in base ai gruppi e partirei da questa via per una costruzione di una chiesa davvero inclusiva, propositiva, responsabile, testimone della verità. Mi ricordo ora in quale gruppo è capitata questa domanda qui, però partirei da questa e mi colpisce un'espressione utilizzata nella sintesi proprio del gruppo, ve la leggo proprio, ve la cito testualmente. la chiesa deve essere capace di guardare l'altro in faccia come una risorsa e non come una minaccia e poi continua, ma mi piaceva l'espressione, proprio questa espressione qui, deve essere capace di guardare l'altro in faccia e è molto plastica, evocativa come espressione, affascinante, ma che sicuramente poi richiede anche una spiegazione, immagino, no? Quando si parla in maniera impersonale è sempre tutto bello, la chiesa deve fare questo, la chiesa deve guardare in faccia le persone, la chiesa e così via. E' anche piuttosto liberante l'impersonale, perché un po' quando io dico la chiesa deve, io no, che è ovvio, io già lo faccio, la chiesa deve, e quindi io posso starmene tranquillamente diciamo a fare quello che faccio sempre perché tanto faccio bene. E quindi penso che bisogna scendere nello specifico e chiarire necessariamente chi guarda chi. Cioè, quando dico la chiesa guarda, devo pensare chi guarda? Io? La mia comunità? le persone che con me si ritrovano in questa roba che chiamiamo cristianesimo, vita di fede, ecco, chi guarda chi? E' importante, banale, ma è importante porsi questa considerazione. E soprattutto quando? Perché quando è che la chiesa si guarda in faccia? Proprio in maniera molto concreta, io questa mattina cercherò di essere veramente molto concreto. Quando è che si guarda in faccia la chiesa? Spesso mi viene da pensare a quella che intendiamo vita di comunità, la vita della comunità, della chiesa. Un po' francamente mi diciamo così ecco, mi cadono anche un po' le braccia perché la vita di una comunità se la intendiamo come semplicemente quel momento in cui le persone si ritrovano alla messa la domenica o a celebrare una non so qualche qualche momento di preghiera un'adorazione o la vita di comunità che cos'è? Quando si fa formazione o quando si fa la catechesi o quando o quando si fanno cose no? La vita di comunità che cos'è? Quando ci si ritrova per non so la sagra della porchetta organizzata dalla parrocchia porchetta e birra bistecchie di tofu anche includere i vegetariani anche se non si usa ancora nelle parrocchie questo e cioè che cos'è la vita della comunità? Quando la comunità organizza un viaggio una gita quando la comunità organizza non so un appunto una sorta di qualsiasi iniziativa che ci venga in mente quando la comunità fa cose ecco questa è la vita di una comunità quando il prete di una comunità fa cose questa è la vita di una comunità perché fratelli e sorelle se questa è la vita di una comunità io veramente vado un po' in depressione scusatemi ma ridurre la comunità a persone che fanno cose capite che è un po' problematico e insomma non possiamo non possiamo ridurre a questo una comunità no? anche perché poi ce lo dice pure l'esperienza ordinaria no? e io credo che tutti in questi anni abbiamo provato ad organizzare cose tutti quale parrocchia non ha organizzato cose no? non ha organizzato iniziative eventi e ecco forse però costatiamo anche che probabilmente questo non è sufficiente per poter dire no? per poter in qualche modo spiegare il compito o proprio la caratteristica di una comunità e quindi mi piace l'idea che una comunità deve tornare a guardarsi in faccia perché credo sia questo in effetti forse il discrimine l'elemento fondamentale e qui avviene in effetti il cortocircuito e proprio qua perché esorge quest'ansia di dover necessariamente organizzare qualcosa per pensare che la comunità sia viva questo è il punto no? cioè io per avere come dire un'idea mentale che la mia comunità è viva devo organizzare queste cose ma non è indice di vitalità questa non è indice di vitalità l'inghippo non sta neanche tanto nelle proposte che spesso con grande impegno portiamo avanti ma con l'idea di fondo che spesso emerge nei vari dialoghi con persone seriamente impegnate nelle nostre comunità ovvero l'idea che dobbiamo fare cose per attirare riempire spazi vivere dei momenti sold out come si dice oggi no? tutto esaurito tutto pieno ecco non credo sia questa la ragione principale per cui muoversi in una comunità non è questa non credo affatto che guardare in faccia gli altri sia possibile con questo criterio di fondo che è falsato perché se io devo riempire uno spazio non lo sto facendo perché sto guardando le persone in faccia perché devo riempire uno spazio perché mi devo sentire psicologicamente tranquillo che il mio mondo va avanti così e questo cari fratelli e sorelle è un criterio falsato che dobbiamo imparare un pochettino a riconoscere nelle nostre iniziative nelle nostre proposte e probabilmente anche a non dico correggere però ecco ad allontanarlo perché è una tentazione è un come dire è un qualcosa che proprio ci fa deragliare da quello che Gesù ha pensato della sua comunità e poi questo criterio in effetti ci permette veramente di guardare in faccia le persone io credo che spesso questo fare tante cose provochi all'interno delle nostre comunità delle lacerazioni pazzesche creano dei meccanismi di potere difficili da controllare per cui ci agitiamo e ci litighiamo non ci guardiamo più in faccia proprio per organizzare cose e il parroco mi ha dato questo incarico quindi lo devo portare avanti e quindi io ora devo fare questa cosa quello che pensi tu non mi interessa minimamente capite no quale cortocircuito avviene proprio in virtù di questa soluzione che sembra essere come dire predominante ma che in realtà provoca veramente delle anticomunità dei luoghi anticomunitari antievangelici dove non è possibile proprio radicalmente vivere il Vangelo perché come faccio a vivere il Vangelo se in mente nel cuore ho una logica di potere ho una logica di esclusività e di controllo degli altri e ho una logica di sopraffazione della vita degli altri come faccio a vivere il Vangelo come si fa a dire che quella comunità è evangelicamente ispirata o che come dire possa al suo interno coltivare la crescita delle persone nello spirito evangelico capite che questo cortocircuito va risolto va risolto perché se non lo risolviamo stiamo lì a leccarci le ferite in continuazione finché ci saremo ecco perché poi non è che siamo eterni credo che sia necessario chiedersi cosa è possibile fare per tornare a guardarsi negli occhi e a liberarsi appunto della paura dell'altro credo che questa sia la domanda importante e intanto è un criterio questo del guardarsi in faccia e tornerà nel corso di questa mia esposizione tornerà e credo sia un criterio fondamentale da assumere come punto fondamentale su cui imperniare anche il nostro discernimento comunitario e anche quelle che poi possono essere le nostre decisioni circa ciò che dobbiamo fare in quest'anno pastorale dopodiché chi lo fa questo chi perché è importante rispondere anche a questa domanda lo fa lo zoccolo duro che sta in una comunità noi che stiamo oggi qui dentro che fra poco torneremo a casa che la domenica ci incontriamo a messa che sappiamo di essere pochi di essere in età anche piuttosto come dire avanzata non siamo non siamo più giovincelli e ragazzini che necessariamente dobbiamo noi porci questa considerazione e cominciarla ad affrontare sul serio non è che la comunità siamo noi o siamo solo noi però capite che la come dire l'interrogativo fa parte di quelle persone che noi chiamiamo zoccolo duro e che stanno in un posto e che si ostinano a tentare di vivere il Vangelo e che necessariamente a un certo punto devono lasciarsi anche un po' mettere in discussione lo zoccolo duro è anche a volte un po' duro nel senso di durezza di rigidità mentale cardiaca e quant'altro però capite bene questo zoccolo forse deve tornare a porsi questo grande obiettivo e quindi cercare di capire come tornare a guardarsi negli occhi anche perché questo zoccolo duro ha una chiamata di per sé noi abbiamo una chiamata dobbiamo tornare a gustare il piacere di ritrovarci dobbiamo coltivare l'amicizia che la fraternità evangelica a cui la fraternità evangelica ci chiama quando ho in mente queste cose non ho una una cartolina in mente un'immagine da cartolina non ho come in alcune come in alcuni libri illustrazioni di giornalini religiosi si fa vedere che la famiglia sia tutta un po' così fumosa anzi più che fumosa sia un po' un cartone animato ecco no quando parlo della gioia dell'amicizia della gioia del ritrovarsi parlo proprio della complessità di questo processo del lavorare per i legami comunitari e quindi dell'assumersi anche il dolce peso della creazione dei legami comunitari è un dolce peso è dolce ma è un peso però è la croce che Gesù Cristo chiede a chi vuole seguirlo è il dolce peso e il gioco che lui in qualche modo chiede ai suoi discepoli di portare no e questa cosa vedete è io credo sia fondamentale proprio da ripescare da rimettere come centro di impegno da parte di ciascuno di noi questo noi non possiamo pretenderlo dagli altri non possiamo imporlo alle tante famiglie che non vengono e non ci vogliono sentire non possiamo pretenderlo dal gruppo degli adolescenti possiamo iniziare a crederci a crederci noi e a rischiare noi di percorrere questa via noi zoccolo duro piccolo gruppo che si ostina ancora a ritrovarsi il primo giorno dopo il sabato nello stesso luogo permettetemi di sdoganare un verbo per chiarire ancora di più quello che questo zoccolo duro è chiamato a fare noi siamo stati e siamo chiamati a godere per piacere godere non è peccato godere e smettiamola di pensarla così per cortesia noi non siamo chiamati a come dire a una vita infelice non siamo condannati a vivere un processo di così sociale istituzionale che deve portare a disintegrare la nostra personalità noi siamo chiamati al gaudio alla gioia ci sono pure misteri gaudiosi voglio dire siamo chiamati a questa cosa qui e non dimentichiamolo per cortesia le beatitudini beh la voglia insomma il Vangelo credo sia abbastanza chiaro su questo noi non siamo contro il piacere c'è anche una trasmissione santo piacere non so se la conoscete il Vangelo non ci toglierà mai la parte più bella della nostra vita del dolce peso della reciprocità il gioco della croce quella di ogni giorno così come indicato dal Vangelo ecco io credo che questo è un ulteriore criterio che dovremmo un po' recuperare qui a Santa Maria Maggiore siamo la parrocchia di Santa Maria Maggiore la chiesa è chiusa da quattro anni e quindi ci siamo ritrovati a celebrare in un posto che è differente dalla chiesa è differente dall'edificio cultuale questa cosa chiaramente ha generato un po' di difficoltà perché la mia chiesa è chiusa quindi io me ne vado altrove o non ci vai proprio per niente è finito insomma quindi la domenica noi ci ritroviamo effettivamente con poche persone tra l'altro molto anziane ma guardate che si può stare bene lo stesso il che non significa rinchiudersi nel proprio guscio ma significa anche saper apprezzare saper vivere bene e saper poter piano piano instaurare delle relazioni nuove anche guardate anche difficili perché noi preti siamo un po' più giovincelli delle signore che vengono a messa e le signore che vengono a messa sono un po' più anziane diciamo così anche del e capite bene che a volte la differenza generazionale come si fa a costruire una relazione bella nella differenza generazionale soprattutto quando magari i preti non sembrano corrispondere diciamo così ai nostri ideali di chiesa o comunque alle nostre aspettative e guardate che si può fare si si litigherà voglio dire non è una cartolina quello che sto dicendo comporta fatica impegno pazienza sopportazione vicendevole ma si può vivere una celebrazione che sia seppur semplice minimale da un punto di vista numerico di grandi effetti speciali si può vivere una celebrazione che invece sia arricchente e che ti faccia appunto godere quella compagnia e quella bontà che possiamo mettere in condivisione la piccola comunità eucaristica torni a guardarsi in faccia anche perché quello che ho detto di Santa Maria Maggiore io non penso che nelle altre comunità sia totalmente differente vabbè più di Santa Maria Maggiore sarete nelle vostre comunità sicuramente però neanche siete a parte le parrocchie più grandi voglio dire neanche sarete nelle vostre messe 100 50 persone non credo se lo siete se avete questi numeri bello mi fa piacere mi ricollego a un'altra domanda sviscerata in altro gruppo quella sulle strutture materiali e giuridiche che permettono alla chiesa di concretizzarsi nella storia c'era una domanda che questa domanda un po' in un altro gruppo credo quello di Ortona forse se non ricordo male emerge sempre più la consapevolezza che gli edifici sacri per quanto importanti sotto il profilo culturale storico sembrano essere la causa principale della perdita dell'obiettivo che ci siamo dati guardarsi in faccia no? abbiamo diverse comunità che soffrono hanno sofferto l'assenza del loro edificio principale di riferimento sono diverse comunità nella nostra diocesi che al momento mancano difettano della chiesa parrocchiale no? permettetemi tuttavia ribadire un concetto che credo sia fondamentale per la vita credente le chiese strutture materiali che superano in abbondanza il reale fa bisogno per numero di abitanti e soprattutto di credenti di un territorio ma sul serio sono la ragione per cui la domenica mattina decidiamo di uscire o non uscire dalle nostre case per celebrare l'Eucaristia no? perché capite che se questa è la ragione per cui io decido o non decido di andare o non andare a messa o di celebrare l'Eucaristia cioè se ho o non ho quella chiesa quell'edificio o quei mattoni lì e abbiamo dei problemi se i fondamenti della mia fede personale sono i marmi i mattoni credo possa tranquillamente dirmi credente tuttavia mi perdo la parte più bella della fede la gioia di una vita buona umana ad immagine di quella di Gesù Cristo non credo che una comunità possa scomparire perché l'edificio sacro è chiuso una fede del genere che è antievangelica ovviamente non serve a nessuno e non vi possiamo fare affidamento per stare tranquilli che il nostro credo sia radicato e ben presente nel nostro territorio credo che questa considerazione vada fatta per una riforma delle strutture materiali questo chiaramente non vuol dire dover mettere una pietra tombale sul patrimonio storico artistico che abbiamo la chiesa italiana tramite l'otto per mille investe tantissimo sulla tutela di questo patrimonio e gli effetti di questi investimenti sono visibili anche a noi considerate che la maggioranza delle chiese che vengono ristrutturate restaurate è possibile farlo grazie a questi soldi che in alcun modo parliamo di somme anche importanti che in alcun modo le comunità locali possono di tasca propria estrapolare restaurare oggi un tetto a una chiesa costa tanti soldi per tante ragioni sicurezza del lavoro dignità del lavoro costo dei materiali quindi non è il buon muratore del paese che vaglia ad aggiustare il tetto della chiesa non funziona più così non si può fare più così a meno che non si voglia finire in prigione però capite i costi sono lievitati e questo sistema permette ancora di tenerci a questo patrimonio che abbiamo poi è necessario sapere che l'otto per mille non è eterno e arriverà il momento che il calo numerico dei fedeli è forse già arrivato questo momento comporterà anche un calo drastico delle firme e quindi delle risorse che al momento sono a servizio delle nostre strutture il calo economico esigerà necessariamente una riforma delle strutture sarà il dato di fatto a dirci che non possiamo tenere tutto quello che tenevamo prima meno personale calo drastico delle persone che oggi ruotano attorno all'indotto prodotto dalle gestioni materiali delle chiese meno luoghi da gestire sperequazioni tra comunità grandi e comunità piccole che non potranno permettersi le stesse cose nell'ambito delle strutture materiali una chiesa più povera di numeri soldi beni presenza sociale ma non necessariamente annientata io credo che sia questo che dobbiamo capire la devastazione materiale non può farci perdere la gioia del Vangelo certo ci mette in crisi perché ci accorgiamo che tanti ancora sono gli idoli dai piedi di argilla messi a fondamento della nostra fede e soprattutto del nostro agire pastorale la chiesa senza luoghi può continuare a celebrare l'Eucaristia certo senza strutture potrà continuare a svolgere la sua missione pastorale di servizio alle persone certo può continuare senza soldi potrà muovere azioni caritatevoli verso i più bisognosi certo perché la carità non si fa solo che le soldi queste cose non cesseranno mai sono nel DNA della chiesa ma hanno il compito di non dare per scontato tutto questo di riappropriarci delle cose essenziali che favoriscono la crescita della carità interiore sorgente del nostro gaudio e da cui proviene ogni nostra azione pastorale noi non facciamo cose perché abbiamo i soldi facciamo cose perché forse ci è stata trasmessa abbondantemente una ricchezza interiore che è la gioia dell'incontro con Cristo che ci permette anche di fare cose però non pensate che siccome strutturalmente siamo a posto quindi possiamo permetterci il lusso di continuare ad andare avanti così a proposito di strutture è stato toccato anche il punto inerente le celebrazioni la celebrazione dell'eucaristia domenicale come celebrare io senza non voglio rubare lo spazio e la competenza di chi sicuramente ne sa più di me a tal riguardo però credo che proprio in base al discernimento comunitario che in qualche modo stiamo favorendo il criterio di tornare a guardarsi in faccia sia fondamentale anche nelle celebrazioni certo l'arredo presente nelle nostre aule liturgiche spesso non permette tutto questo mi chiedo con i pochi numeri che abbiamo nelle nostre celebrazioni è possibile anche una diversa disposizione all'interno dell'aula liturgica magari che ci permetta di ritrovarci attorno all'altare che favorisca la creazione di una fraternità lo scambio di una riflessione sulla parola ascoltata favorisca l'ascolto vicendevole anche durante l'eucaristia la preghiera spontanea immaginate le preghiere dei fedeli che noi ci ostiniamo a leggere sui foglietti la demilitarizzazione delle nostre liturgie dal proposito ricordo che i ministranti di dove ci sono ancora bisogna anche ringraziare questi ragazzi che nelle ancora piccole comunità si mettono a servizio per piacere però non sono un corpo militare non li dobbiamo preparare come i soldatini non fanno la guardia del corpo ai celebrandi i ministranti non sono dei robottini che mettiamo lì o dei manichini che ci rendono più bellina la celebrazione sono ragazzi curiamoli dobbiamo avere veramente tanto tanta pazienza rispetto ascolto nei loro confronti e ricordarci che il vero amore non è mai possesso dominio o peggio lavaggio del cervello plagio chi ci plagia non ci sta amando per quanto ci dica che ci voglia bene impariamo anche per piacere a dosare bene queste cose poi ancora se i cori scendessero dai piedistalli se i cori potessero sentirsi parte viva di un'assemblea no e cantare non per le persone ma con le persone con tutti e e se i celebranti i preti diaconi potessero scendere anche loro da no le pedane tutto quello che noi mettiamo e che rendono la chiesa in effetti una gerarchia ben stabilita non perché il prete non possa svolgere la sua funzione ma non è necessario il piedistallo per svolgerla no e oggi ministeri i ministri lettori accoliti catechisti ci permettono queste cose di guardare in faccia gli altri perché se i ministeri o se il ministero viene utilizzato per interrompere questo contatto visivo e interrompere tra le persone il compito primario di tornare a essere famiglia essere popolo di Dio capite bene che è un grosso problema i ministeri sono a servizio della crescita del popolo di Dio ma se devono diventare un pretesto per medaglie medagliette riconoscimenti gagliardetti e quant'altro guardate è meglio non averli i ministeri interrompiamo cioè spero di essere chiaro in quello che dico chissà se il criterio di guardarsi in faccia possa portare anche a piccoli e graduali cambiamenti stili e innescare processi tentativi una gradualità nel nel poter e saper celebrare insieme l'Eucarestia il giorno del Signore ultima considerazione la vorrei lasciare per quanto riguarda la pratica di accompagnamento di adolescenti e giovani non voglio stare a dire le solite cose su questo tema perché sono piuttosto pesante a riguardo provo a lanciare alcune provocazioni la delega educativa in questo ambito non funziona se pensiamo che siccome arriva qualcuno o qualcuna che si propone nell'accompagnamento di questa magnifica anche difficile fascia di età ci siamo tolti un peso che siccome arriva a questa persona ci siamo tolti un peso di dosso sbagliamo alla grande i giovani come è giusto che si affezionino alle figure alle persone i giovani creano più facilmente legami con qualcuno che li ascolta si mischia con loro accoglie con rispetto la diversità che in qualche modo loro manifestano con i loro comportamenti e atteggiamenti ma questo lavoro non può essere di uno o di una persona sola non può essere e tutto questo non avviene necessariamente nei nostri ambienti negli oratori nelle canoniche nelle chiese sono talmente tanti bisogni educativi espressi più o meno consapevolmente che non si può portare avanti da soli un percorso con le giovani generazioni non da soli e forse neanche necessariamente solamente nei nostri ambienti guardate che forse non ce ne rendiamo conto ripeto noi noi adulti difettiamo del della volontà di voler guardare seriamente la realtà la complessità che caratterizza questi ragazzi ci richiede da un punto di vista prettamente educativo una serie di competenze che come pensiamo di poter avere da soli tu ci puoi mettere la buona volontà l'affetto l'amore d'accordo ma poi se un ragazzo vuole cambiare sesso vuole diventare femmina vuole diventare maschio tu che fai tu singolo ti indigni ti arrabbi preghi non si sa bene ma capite bene la complessità di oggi è talmente manifesta chiara che non è più possibile pensare che tu stia lì a fare il capofila il capogruppo di non si sa bene che cosa se li vuoi educare se li vuoi sfruttare è un altro campo se li vuoi prendere perché ti fa piacere perché sarai ricordato ricordata come quella che sta o quello che stava con i giovani va bene ma se li vogliamo accompagnare educare è un'altra storia richiede veramente una serie di alleanze di studio e anche di flessibilità che probabilmente le nostre comunità intere devono cominciare a pensare i giovani vanno attirati affascinati al Vangelo questa è un'altra cosa che ho letto nelle sintesi che sono pervenute sì vanno attirati affascinati al Vangelo ma non nella logica del mondo non nella logica mondana scusate i giovani non sono cretini qui ne abbiamo qualcuno smentitemi se sbaglio no cioè eh non lo so i giovani tutto ciò che vagamente percepiscono come una gabbia no la morale persino l'affetto che a volte può essere una gabbia soprattutto quando l'affetto chiede qualcosa in cambio ci possiamo mettere tutti i biscottini che vogliamo dentro questa gabbia la possiamo infiocchettare come vi pare ma non abboccheranno mai grazie a Dio grazie a Dio perché in una chiesa polipo non ci vogliamo stare neanche noi neanche noi adulti figurarsi giovani gli eventi spot sono buoni solo per noi ci tranquillizzano sul fatto che almeno ogni tanto li vediamo in chiesa tra l'altro a messa perché poi è l'unica proposta che sappiamo fare senza alcun criterio di gradualità senza alcun innesto nella loro vita reale attenzione a credere che l'appartenenza culturale sia veicolo di trasmissione della fede quanti trentenni e quarantenni oggi sono attaccati alle tradizioni di un posto ma non vivono minimamente la gioia e la freschezza del Vangelo d'altra parte sono presenti o no nelle nostre assemblee questa fascia d'età 30-40 anni sentono il peso dell'appartenenza culturale alla nostra fede un minimo vorrebbero garantirlo attraverso soprattutto le forme della pietà popolare tanto care alle nostre nonne e una volta l'anno un sacrificio lo possono anche fare te la portano la statua ti organizzano la festa del paese ti mettono si impegnano per carità ma una volta saldato il debito affettivo che gli abbiamo inculcato la fede a che serve? anche per loro il meglio della proposta evangelica guardarsi in faccia è sfumato non dico questo per muovere una critica nei confronti di questa fascia d'età dico questo che però abbiamo consegnato loro a questa fascia d'età ci appartengo anch'io tra l'altro abbiamo veramente consegnato un un sacrificio una forma sacrificale della fede e capite bene che i sacrifici noi c'è più facile imporli agli altri ma noi per primi non li facciamo cioè è complicato fare i sacrifici credo sia importante offrire tempi e spazi di ascolto e nel camminare insieme raccontandosi la vita come essa appare si presenta e provare insieme a piccoli passi a solcare la strada di Cristo così come l'icona di Emmaus ci ha suggerito in questi giorni ma noi zoccolo duro in tutti i sensi torniamo a dar retta al grande desiderio ardente di Gesù mangiare la Pasqua con noi questo è il suo grande desiderio ardentemente desiderato a mangiare la Pasqua con voi lasciamoci trasportare un po' da questo desiderio di Gesù di stare con noi celebrare insieme il sacramento della carità il dono che Gesù fa di se stesso rivelandoci l'amore infinito di Dio per ogni uomo l'amore più grande quello che spinge ciascuno di noi a dare la vita per i propri amici a dare la vita in generale torniamo a praticare un po' questo sia veramente questo guardarci in faccia una frase ripeto così semplice e diretta sia un po' da pungolo e stimolo a riconsiderare il nostro discernimento comunitario in virtù anche di quello che poi intendiamo proporre o meglio vivere all'interno delle nostre comunità proprio a partire magari da quest'anno grazie recuperando l'immagine dei ceci da cui Don Angelo è partito possiamo ben dire che prima ci ha stesi e poi ci ha battuti con le sue riflessioni partite però da quello che era emerso nei vari gruppi delle zone pastorali e chiaramente non si occupano spazi si aprono percorsi e anche quello che lui ha tirato fuori è l'apertura di un percorso di un orizzonte che quindi ha bisogno di gradualità e di tempo del resto come vi dicevo ieri siamo nel decimo anniversario di Evangelii Gaudium e lì c'era appunto scritto questo che non bisognava occupare spazi ma aprire percorsi lo vogliamo continuare a fare lo vogliamo continuare a fare oggi e lo vogliamo continuare a fare in seguito insieme come diocesi ma anche nelle singole comunità lasciamoci interrogare e lasciamoci mettere in discussione dalla parola questo convegno come sempre in modo provvidenziale capita tra la professione di fede che Pietro ha fatto domenica scorsa quando ha detto a Gesù tu sei la mia vita e quello che Gesù dirà domani a Pietro sì io sono la tua vita ma tu però per me sei un avversario perché non l'hai capita la vita che ti voglio dare e mi sei di scandalo io ti avevo detto che dovevi essere il primo mattone e tu invece adesso ti sei messo di traverso torna dietro di me e poi ecco provvidenzialmente le proposte che il Vangelo ci farà domani rinnega te stesso prendi la croce segui me alla fine davvero quello che avete detto voi e che Don Angelo ci ha ripresentato con il suo stile è questo rinnegare se stessi non per mettere da parte il piacere e il godimento ma per non mettere noi stessi al centro mettendoci l'altro con la grande Gesù il Dio fatto uomo e gli altri che sono vicino a noi prendendo la croce che quindi non è Dio a darti non è una punizione ma è l'aver compreso che della tua vita devi fare un dono che la tua vita deve essere amore vissuto e perciò la necessità di seguire Gesù altrimenti potremo pure guadagnare il mondo intero ristrutturare tutte le nostre chiese avere ambienti tutti perfetti e precisi ma non avremmo fatto niente perché avremmo perso la nostra vita e soprattutto l'avremmo fatta perdere ecco un quarto d'ora di pausa in questo momento però proprio un quarto d'ora in modo tale che alle undici un quarto torniamo e proseguiamo la mattinata ascoltando anche voi don Alessio e poi don Carmine un quarto d'ora piano piano riprendiamo posto anche le suore i preti anche le suore anche i diaconi così diamo ad Alessio la possibilità di iniziare il suo intervento grazie Alessio a te la parola allora buongiorno a tutti allora per quanto riguarda il mio intervento avrebbe dovuto ovviamente avrei dovuto parlarvi del documento delle linee guida ma fortunatamente il vescovo ieri ha dato già una bella infarinata per cui io mi limiterò solamente a ricordarci dove siamo arrivati perché adesso abbiamo parlato abbiamo discusso ieri ci siamo incontrati ma adesso bisogna fare i conti sull'oggi dove ci troviamo e soprattutto che cosa dobbiamo fare ok mi sia concesso però di partire da un da un esempio perché io personalmente mi sono fatto questa domanda ma che è la fase sapienziare perché siamo passati da una fase narrativa abbiamo passato due anni di fase narrativa quindi vi racconto vi racconto di sé della propria storia della condivisione all'interno di gruppi piccoli gruppi o grandi gruppi sinodali e nelle parrocchie vi ricordo che già due anni fa dovevano essere nominati due referenti sinodali e vi ricordo che questi due referenti sinodali saranno fondamentali per questo anno perché come vi dirò alla fine nella costruzione del percorso finale saranno necessari per costituire il documento finale quindi noi siamo partiti dai primi due anni di narrazione la fase narrativa il primo anno era legato a quella che è la conversazione nello spirito di cui tutta Italia tutta la chiesa italiana ne ha esplicitato fondamentalmente l'importanza cioè non una conversazione tanto per non è un ascolto fine a se stesso ma è un ascolto che deve essere rivolto e aperto a qualcosa deve essere un ascolto aperto a qualcuno ma non fine a se stesso ma per prendere decisioni concrete perché quando si ama le decisioni devono essere concrete perché se no rimaniamo solo sull'idea quando si ama quando si sta insieme inevitabilmente devi prendere delle decisioni perché l'altra persona non venga a dirci mi hai ascoltato mi hai sentito ma poi hai fatto come volevi perché nessuno possa dire questo perché tutti invece possano dire mi hai ascoltato hai ascoltato le mie ragioni hai ascoltato il mio sentimento la mia storia il mio passato le mie sofferenze ora però io te le ho date in mano ora non distruggerle lavoriamoci sopra la fase sapienziale è proprio questa e lavorare sopra le storie che tutti o che comunque le persone ci hanno consegnato in mano perché quell'ascolto veramente non sia fine a se stesso mi è venuto in mente un esempio per essere molto concreto se qualcuno mi dà un cazzotto mia nonna mi diceva sempre non reagire subito aspetta dieci secondi chiediti perché e poi agisci noi adesso siamo nei dieci secondi abbiamo ricevuto un cazzotto perché questi due anni abbiamo ricevuto gente che ci diceva voi siete fatti così la chiesa è fatta così ne abbiamo prese di ogni quindi il cazzotto è arrivato però la chiesa o papa francesco non ci chiede adesso rispondi con un altro cazzotto dice aspetta aspetta chiediti perché vai oltre quello che ti hanno detto e poi agisci la fase la fase profetica quindi siamo passati dalla fase narrativa ci hanno dato il cazzotto ci hanno consegnato loro stessi la fase sapienziale dieci secondi di riflessione che ovviamente saranno un po' più dilatati dieci secondi di riflessione per chiederci perché e in che cosa dobbiamo cambiare e poi terza fase la più bella la fase profetica cioè è mo cadema fa perché nella fase profetica la chiesa italiana prenderà delle decisioni in base a cosa in base a quelle domande che le chiese particolari si sono fatti in quest'anno su cosa sulle cinque costellazioni che ieri il vescovo di cui il vescovo ieri vi ha parlato su quelle tematiche saremo chiamati a chiederci perché che cosa fare perché le persone ci hanno detto così farci domande la fase sapienziale e i biblisti ci direbbero don Emanuele immagino ci direbbe che passeremmo e questa è un'immagine che ieri sera così passiamo dal sapere al sapere cioè passiamo dal sapere le cose a sapere di qualcosa cioè noi passiamo dal sapere le cose siamo venuti a conoscenza delle storie e con quelle storie siamo chiamati a sapere di qualcosa anzi azzarderei a sapere di qualcuno perché la fase sapienziale ci dice ma perché lo stiamo facendo ma perché tutto questo questa è la riflessione dei dieci secondi prima di agire riflettiamo questa è la parte più statica ma è anche la più bella perché qui ci saranno risposte che molto probabilmente non ci saremmo mai dati negli anni precedenti qui molto probabilmente andremo alla ricerca o ritroveremo risposte che nello spirito il Signore ci vorrà concedere e ci vorrà consegnare il farlo insieme avrà un sapore diverso l'immagine l'immagine è quella proprio del sale il sale che cosa fa il sale insaporisce i cibi il sale scioglie il ghiaccio il sale viene usato per le ferite e quando le metti sulle ferite il sale se la ferite è aperta brucia ma il sale può essere anche utilizzato in maniera diversa quando ti cade sulla tavola qualcuno prende il sale e lo brutta all'indietro in segno quasi di scaramanzia noi siamo chiamati a cercare il sale cioè a cercare il perché di tutto questo ora voi direte ma sto discorso è troppo teorico però vi posso dire che nella dinamica che Papa Francesco ci ha consegnato in maniera profetica il metodo ecclesiale che la Chiesa ha sempre utilizzato quindi noi col sinodo non stiamo andando ultra ecclesia ma siamo all'interno della Chiesa perché il metodo ecclesiale è e qui vorrei che sia molto chiaro vedere giudicare e agire è un metodo assolutamente concreto perché perché non si può giudicare se non si vede prima la cosa non si può agire se non si decide nel merito quindi quello che dovremmo fare oggi siamo passati dal vedere oggi al giudicare discernere capire che cosa fare nei prossimi anni queste domande di senso che ci faremo le consegneremo poi all'ambito nazionale e l'ambito nazionale vedendo tra le Chiese italiane tra le varie diocesi domande che si ovviamente che andranno a costituire un sensus fidelium cioè un senso dei fedeli che è sparso verranno poi condivise a livello continentale e dal livello continentale verranno condivise a livello universale alla fine arriveremo a delle domande chiare precise lo speriamo per prendere azioni e agire nei prossimi anni in maniera profetica un esempio su tutti il ruolo della donna nella Chiesa magari uscirà da tante conferenze episcopali il fatto che la donna comincia ad avere responsabilità anche ministeriale non solo di accolitato e non solo di ministero di lettorato io faccio un esempio qualsiasi ma per essere molto concreti perché la Chiesa oggi è chiamata ad agire profeticamente e lo può fare solo dopo essersi ascoltata e aver fatto discernimento sulle domande che realmente contano Monsignor Repole ci avrebbe sicuramente ricordato della sua lettera pastorale che vi invito a leggere ciò che quello che davvero conta quindi in definitiva noi siamo qualcuno dirà tutta sta cosa poi concretamente come la realizziamo la proposta è questa intanto e questo ci tengo a dirlo le conversazioni nello spirito cioè il metodo che abbiamo utilizzato fino oggi non va in pensione non va in pensione nemmeno il cantiere i quattro cantieri di cui già conoscete tutti quanti l'importanza i quattro cantieri in diocesi continueranno a lavorare e si continuerà nel fatto che molto probabilmente il laboratorio l'esperienza laboratoriale nella chiesa dice molto di più che la dottrina dice molto di più che qualcuno che parli e questa cosa già solo parlarvi di questo mi rendo antipatico io a me stesso quindi conversazione nello spirito e cantieri di betania questi continuano il loro lavoro ma nella fase sapienziale inizieremo lunedì con l'incontro aperto del consiglio presbiterale con i vicari zonali quindi i presbiteri che rivestono la responsabilità di vicari zonali lunedì 4 settembre mattina la sera ci sarà l'incontro invece dei membri del consiglio pastorale diocesano che cosa saranno chiamati a fare il consiglio presbiterale aperto ai vicari zonali e la sera il consiglio pastorale saranno chiamati ovviamente a prendere ad informarsi in merito alle linee guida che sono state già dette dal vescovo e si dovrà capire quale sarà il metodo per ricercare le domande di senso che ci siamo detti poc'anzi non è un metodo calato dall'alto dovrà essere un metodo condiviso il più possibile con il consiglio presbiterale i vicari zonali e il consiglio pastorale metodo che verrà poi condiviso con chi l'ho detto prima i due referenti parrocchiali per parrocchia perché e questa è una proposta secondo me valevole sarebbe interessante aprire il consiglio pastorale diocesano anche ai due referenti parrocchiali per ogni parrocchia perché il metodo il metodo di ricerca delle domande di senso sia il più condiviso possibile questo metodo che verrà poi scritto speriamo per la fine di settembre verrà consegnato alle zone pastorali le zone pastorali poi saranno chiamate loro a vivere il momento di ricerca quindi su quei cinque macro temi di cui avete già sentito parlare e che non sto qui a ripetere ci sarà sicuramente qualche macro tema che interesserà di più una zona pastorale e dirà noi ci fermiamo sulla struttura quindi le domande che noi ci faremo sarà sulla struttura saranno sul linguaggio saranno sulla comunicazione quindi il lavoro non va fatto oltre il testo che viene consegnato le linee guida sono fondamentali perché dovranno essere utilizzate per capire le domande di senso una volta incontrati nelle zone pastorali le zone pastorali consegneranno come l'anno scorso abbiamo fatto abbiamo incontrato le zone pastorali durante la quaresima se non erro sì dopo la quaresima Pasqua i referenti al nazionale che siamo Don Angelo e Dio dovremmo consegnare entro aprile 2024 un testo di sintesi che vada sinteticamente a consegnare a livello nazionale quelle tre quattro non di più domande di senso dove che la chiesa diocesana vuole che la chiesa italiana cominci a camminare quindi devono essere quelle domande di senso che ci interpellano e noi questo lavoro lo possiamo fare solo e unicamente con la disponibilità di quelli che sono i referenti sinodali perché non so se vi ricordate due anni fa abbiamo scritto insieme ai referenti parrocchiali ed eravamo più di 40 persone abbiamo scritto il testo che poi è stato consegnato in assemblea in cattedrale a fine aprile del 2022 questo vi chiedo la cortesia di rileggerlo perché 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 all'interno di quel testo già sono presenti in nuce delle domande delle priorità che la chiesa già diocesana si era imposta quindi vi chiedo la cortesia di andarlo a rileggere ci sarà poi la relazione finale che verrà fatta entro il 2020 aprile 2024 e poi consegnata nazionale quindi quello che bisognerà ricercare nei vari gruppi sinodali parrocchiali e di zona pastorale bisognerà ricercare i temi da approfondire nella fase profetica cioè nella fase in cui si dice la chiesa adesso dopo aver sentito tutto deve agire siamo nei dieci secondi siamo nei dieci secondi di riflessione siamo nei dieci secondi in cui ci chiediamo ma perché tutto questo se qualcuno già se l'è chiesto bene perché vuol dire che ci siamo messi in crisi perché vuol dire che ci siamo buttati non abbiamo paura delle domande non abbiate paura delle domande perché queste saranno utili per ripartire con la fase profetica che culminerà nel giubileo 2025 e il papa ha presentato la fase profetica nel 2025 perché è l'anno giubilare cioè l'anno della rinascita l'anno in cui la chiesa prende su di sé delle decisioni irrevocabili delle decisioni che la chiesa stessa noi insieme abbiamo percepito di dover cominciare a fare questa è la sinodalità quando la sinodalità sarà avrà preso forma quando noi non parleremo più di sinodalità quando noi non avremo più necessità di parlare di sinodalità significa che ci riconosceremo veramente chiesa perché anche il termine sinodale ormai è entrato sta entrando un po' nell'orecchio e sta uscendo perché dice qui se sempre in questa sinodalità la sinodalità è un termine che ormai quando si dice sentono sempre i brividi e questo l'unica cosa che volevo e volevo concludere così è la ricerca del sale spesso e volentieri diventa pericolosa perché per sentire il sale bisogna mettersi in gioco bisogna stare su equilibri veramente su equilibri labili perché ricercare il sale ricercare il sale per sentire per risentirti realmente cristiano e facente parte di una realtà che che non ti butta via ma che ti riconosce per per realmente per quello che sei ti fa vivere in disequilibrio noi siamo come stambecchi nel nord italia lo stambecco è l'animale che sta in equilibrio non so se voi andate sulle d'estate se andate sulle dighe le dighe che sono praticamente scoscese ed è difficile stare in equilibrio sulle dighe noterete ci sono delle foto ogni tanto di questi stambecchi che si ritrovano su equilibri labilissimi ma che una volta trovato un equilibrio si mettono a leccare il sale perché sono povere di sodio durante l'estate e vanno a ricercare il sale in posti che nessuno si sarebbe mai immaginato di andare noi siamo come stambecchi in disequilibrio sì in posti dove non ci saremmo mai sognati di andare sì però dopo che avremmo provato il sale sarà difficile tornare indietro per cui grazie e credo di aver finito bene anche perché non ha effetti collaterali questo sale negativi c'era solo positivi gli ultimi dieci minuti di attenzione nell'ascolto che ha caratterizzato la fase narrativa cioè il vedere in altri termini ma che non dobbiamo mai dimenticare anche in questa sapienziale poi anche nella prossima profetica con Don Carmine che ci presenta velocemente le linee dell'agenda pastorale come diceva Don Angelo non è semplicemente cose da fare però ecco quello che siamo e quello che stiamo comprendendo poi si esprime anche attraverso l'agenda non avrò la capacità immaginifica del nostro Don Alessio anche perché io vedermi come stambecco insomma si prepara la valanga e soprattutto non neanche la capacità di lettura provocatoria di Don Angelo visto che mi scopro sempre più moderato passando gli anni dicono che sia qualcosa che accada invecchiando ma non lo so ma a volte qualche volta come dire stare al centro andare al centro delle cose significa essere ancora più ribelli e rivoluzionari del solito d'altronde la pastorale non permette di fare tutte queste come dire grandi elaborazioni verbali o mentali anche perché rischia più delle volte di essere ridotta a pastorizia se ci limitassimo a fare pastorizia vi direi questa è l'agenda prendete e andate a casa ma siccome non possiamo appunto limitarci a quello che già facciamo a volte inconsapevolmente o altre volte colpevolmente soltanto per abitudine dobbiamo cercare di dare un senso a quello che il nostro cammino pastorale ha e come diceva un cantante contemporaneo vediamo se questo senso ci sta ogni anno avete scoperto in questi ultimi anni che l'agenda pastorale è progressivamente per certi versi limitata non perché facciamo più cose ma perché un'importante scoperta l'abbiamo voluta in qualche modo raccogliere da raccogliere le cose che si fanno insieme questa è la differenza principale molte volte capita che alcune esperienze siano in qualche modo settoriali vissute da quell'ufficio vissute da quella comunità parrocchiale o da quel gruppo di persone che faccia alcune cose rispetto ad altre e state invece intenzioni condivise in questi ultimi anni in particolare fare in modo che tutti e tutte potessero sapere quello che stiamo facendo invitando a partecipare gli uni gli altri a quello che è il percorso che può sembrarci da prima vista distante ma in realtà è fondamentale un motivo importante è stato fatto con gli uffici pastorali che soprattutto con lo statuto che ha dato forma differente anche alla pastorale ordinaria sono chiamati a lavorare necessariamente insieme se ancora qualche ufficio fa fatica a fare questo anche in questo anno di passaggio di incarichi perché siamo giunti al terzo anno che segna per alcuni uffici il cambio di guardia il cambio di responsabilità per i motivi legati proprio alla nomina stessa e questo non interrompe di certo un cammino che è superiore alle singole persone e alle singole attenzioni ma si cammina lentamente perché la lentezza è una virtù soprattutto in questo tempo sciagurato per cui siamo costretti a correre a volte senza significato lentamente e insieme ancora di più questa cosa questo camminare lentamente insieme è felicemente contro culturale perché l'epoca dell'individualismo anche nella chiesa è un'epoca che bisogna lasciarsi alle spalle l'individualismo è un peccato grave sotto questo aspetto quindi da confessare quanto prima al vostro confessore preferito camminare insieme con gli uffici camminare insieme come comunità parrocchiali cosa su cui facciamo ancora fatica nelle zone pastorali a muoverci ma appositamente trovate qualcosa che forse fino a qualche anno fa non si trovava nell'agenda gli appuntamenti non solo dei vicari pastorali che sarebbe la minima cosa che noi predici vediamo insieme lo vediamo per scontato ma appuntamenti che ci riguardano come zone pastorali nei percorsi fondamentali della comunità e quegli appuntamenti che ci auguriamo nascano ancora più dall'incontro delle singole comunità in risposta o meglio per far crescere quella proposta pastorale che viene fatta nella chiesa di Cesana non basta come ci siamo detti in molte occasioni che l'arcivescovo venga due volte in anno nella zona pastorale nella nostra comunità e proponga una lezione divina se questo poi non è seguito da un fare entrare la lezione divina nella nostra vita spirituale e personale nelle nostre comunità nei nostri gruppi nelle nostre associazioni altrimenti rischiamo che la lezione che nella chiesa italiana ci proviene dal cardinal Martini abbiamo celebrato un po' la memoria della sua morte che diceva semplicemente vorrei essere ricordata come un uomo un prete che ha voluto fondare tutta la sua vita sulla parola di Dio ed è la lezione fondamentale per noi credenti altrimenti non serviamo a nulla non diventi il modo ordinario con cui noi viviamo la nostra fede dico sempre che sarò felice il giorno in cui vedendo un po' gli vari orari che sono affissi nelle bacheche delle nostre comunità parrocchiali in cui c'è indicato l'orara della celebrazione della messa qualche volta c'è indicato l'orario in cui si confessa si fosse invece indicato sempre il giorno in cui la comunità si ritrova per la lettura della parola di Dio dovrebbe essere un appuntamento irrinunciabile fondamentale quanto la messa domenicale e in tempi in cui ci lamentiamo che anche le nostre carestie sono un pochettino come dire povere di persone spesso di stile questo dovrebbe essere un recupero fondamentale che si è venuto a fare con questo introduco il primo diciamo grande la prima grande parte di questo binario su cui si muove il nostro convoglio comunitario che è appunto la lezione divina annuale sono dall'inizio del suo ministero che Don Emilio proseguendo quella che poi naturalmente è l'indicazione grande che ci viene dalla Chiesa appunto quella dell'ascolto della parola accompagna l'anno pastorale con una lezione divina attorno a un libro più libri libici e in generale attorno a un tema quest'anno il testo biblico sarà il testo degli Atti degli Apostoli che per la sua ricchezza farà anche da testo biblico di riferimento del percorso formativo di Cesano di cui vi dirò qualcosa tra qualche minuto in particolare il testo degli Atti degli Apostoli lo come dire lo vivremo e lo abiteremo casa per casa partendo da quella prima abitazione il Cenacolo il luogo in cui la prima Chiesa nascente come una famiglia si ritrova tra timore e tremore nell'attesa dello spirito e nella responsabilità di dover portare avanti il cammino che il suo Signore Risorto le sta affidando fino a un'altra casa che più delle volte non consideriamo anche perché tra le tante contraddizioni la liturgia c'è la farveggia un giorno ferriale alla fine della Pasqua quando stiamo a pensare tutt'altro ossia la casa in cui Paolo si trova a stare due anni prigioniero e libero allo stesso tempo perché aveva la possibilità di ricevere chi voleva in attesa di essere giudicato perché si era appellato a Roma come cittadino romano lui ebreo di cultura ellenistica rabbino convertito all'unico maestro Gesù di Nazareth e annunciatore del Vangelo dei Genti con lo sforzo di inculturare il Vangelo in ogni contesto differente e in quell'ultima casa c'è la prima comunità forse una delle prime comunità romane una delle prime chiese domestiche Paolo continua a celebrare il Dio la parola e ad annunciare il Vangelo liberamente pur se in catene fino alla fine alla fine alla morte ecco saranno queste case che incontriamo nel corso della lettura degli atti che il nostro Civesco ci presenterà nelle varie tappe del mercoledì della parola della lezione divina che viene fatta ogni mese nelle zone pastorali nelle comunità della nostra diocesi a farci riscoprire la nostra dimensione domestica la nostra dimensione ordinaria come il luogo della parola a questo ripeto sarà importante che in ogni comunità in ogni zona pastorale risponda un approfondimento ulteriore della parola può essere la ripresa di quanto l'Arcivescovo condivide in quel momento della lezione divina può essere il proseguimento di un ascolto che si fa comunitario sempre di più e che dia nervatura dia ossatura sempre di più alla nostra pastora ordinaria può essere il luogo dell'incontro del gruppo dei catechisti e delle catechiste può essere il momento in cui si trova con gli adulti della comunità parrocchiale può essere l'incontro del gruppo dei giovani o dei ragazzi della catechesi ridare questa attenzione alla parola è ciò che siamo chiamati per primi a compiere il secondo percorso pastorale che troverete naturalmente non soltanto indicato nell'agenda pastorale ma che deve essere in qualche misura anche lì l'attenzione precipua e fondamentale alla formazione nella vita della chiesa abbiamo dedicato tra l'altro ieri su un gruppo particolare a discutere di formazione alla vita cristiana è un argomento sempre come dire sempre caldo e quello riguardante il percorso formativo di Cesano chiarisco o ribadisco alcune attenzioni la prima il percorso formativo di Cesano non è la scuola di teologia quindi chi l'ha fatta se la può scampare tranquillamente ma è anche per noi preti naturalmente e abbiamo studiato tanto o abbiamo preteso studiare tanto e poi magari a un certo punto moriamo di ignoranza perché non ci aggiorniamo e non ci confrontiamo non è una scuola di abilitazione professionale non serve per imparare a fare il dottore l'accoglito il catechista o il sacrista ci possono essere altri momenti formativi specifici ma non è quella formazione non è rivolta a soltanto agli impegnati o a quelli che pensano di essere impegnati e neanche dico soltanto agli interessati ma in qualche misura può essere un luogo in cui davvero incontrarci e crescere insieme in una riflessione che sia più qualificata abbiamo bisogno di formare noi stessi e di formarci insieme non voglio parafrasare un celebre pedagogista brasiliano del secolo scorso ieri tra l'altro stavo leggendo alcune cose sulla formazione scout era citato Paolo Freire però insomma nessuno può in qualche modo dirsi assente dal bisogno di educare se stesso e neanche gli altri e del camminare insieme su questo percorso perché è quello che poi ci fa essere sempre più formati e magi di quell'uomo perfetto che è Gesù il risorto la formazione di Cesana quindi è un appuntamento necessario anche se non sufficiente perché ci sono tanti altri aspetti formativi che vanno curati a più livelli compresi quelli personali necessario però perché tutta la nostra chiesa locale possa in qualche modo avere il beneficio della parola della riflessione teologica e dell'orientamento spirituale per poter vivere meglio la sua missione non possiamo dare a nessuno quello che per prima non abbiamo né possiamo dare roba che ci sembra importante ma in realtà è diventata vecchia polverosa e rischia anche di essere avariata il motivo per cui spesso le nostre comunità sono non solo poco attrattive ma sono anche come dire diciamolo così prima Don Angelo parlava della gioia delle comunità le nostre spesso cercheranno di essere il contrario della gioia e perché il cibo che consumiamo come dire è ormai scaduto da un bel pezzo la parola è sempre nuova quindi se il cibo è scaduto vuol dire che l'abbiamo confezionata mai e l'abbiamo come dire improvvisamente avariata quindi cerchiamo di evitare questo il percorso si svolgerà sugli atti degli apostoli con gli atti degli apostoli gli atti vi dicevo sono un libro talmente ampio talmente ricco non perché la riprima corintia non lo sia però anche l'estensione del testo insomma ci permette di poterci muovere con una maggiore libertà e agevolezza Don Emanuele in questo da biblista ce lo può ce lo può testimoniare ce lo può raccontare lungo e largo il percorso sugli atti ci permetterà di cogliere cosa gli atti ci raccontano della chiesa di una chiesa che nasce e che cresce il bello di avere nel canone del nuovo testamento e tra l'altro è l'unico come dire di questo genere insomma di avere un libro come gli atti è che non soltanto il racconto del Vangelo cioè la vita di Gesù e della sua comunità diventa esemplare ed efficace per la nostra vita ma anche il racconto della comunità spinta dal risorto è esemplare ed efficace per la nostra vita non abbiamo quindi solo il Vangelo che ci racconta Gesù e la sua comunità abbiamo il racconto della sua comunità in cui Gesù appare come risorto in cui c'è lo spirito che muove tutto e che permette al Signore di continuare a muoversi tramite le sue membra che siamo noi gli uomini e le donne che fanno la chiesa averlo come libro sacro come libro in cui riconosciamo che il Signore parla ancora significa che quando parliamo di chiesa parliamo di Dio quando parliamo di Dio stiamo necessariamente noi diventando più chiesa più esseri umani più capaci di abitare questa umanità gli incontri saranno sette nel corso dell'anno a partire dal mese di ottobre a febbraio e a giugno vi saranno come lo scorso anno speriamo anche meglio dello scorso anno non solo per la partecipazione due momenti come dire vi saranno delle tre giorni dire delle due tre giorni significa confondervi più la testa di quella che ci ho confusa io avremo una tre giorni a febbraio e una tre giorni a giugno quella di giugno sarà residenziale in cui potremmo avere un momento di riflessione spirituale più approfondito per febbraio diciamo che abbiamo individuato la figura che ci accompagnerà in questo momento prolungato speriamo di poterla portare a conclusione questo progetto naturalmente dobbiamo sempre fare i conti perché di solito delle persone brave sono impegnatissime quelle che non fanno nulla insomma hanno tempo da spendere e per giugno abbiamo già in qualche modo però bloccato vista l'esperienza positiva dello scorso anno l'associazione della Rato e la Stella quella tenuta da Ignazio Punzi e dai suoi collaboratori e collaboratrici che già quest'anno per chi c'è stato è stato come dire una meraviglia nello scoprire in modo bello e vivo di fare formazione e di farla insieme dicevo prima un po' passante mi auguro che sia anche migliore come partecipazione segnalo solo che negli incontri quest'anno abbiamo avuto una media di 80-90 persone per ogni conferenza per ogni lezione sì sarà anche stato merito delle persone splendide che abbiamo avuto da Rosanna Virgilia a Manuela Buccioni dal nostro Don Emanuele a Don Enzo Manes a Don Paolo Ferrini che ci hanno accompagnato nel mese di febbraio per concludere con Padre Cecconi l'ultimo incontro è stato brutto invece vedere come altri momenti sono stati invece non dico disertati ma siamo stati un po' messi da parte alla formazione di Ucesana da tre giorni fatta a fine giugno eravamo soltanto in 18 ed è un peccato anche per tutte le persone che hanno partecipato fermo restando che è sempre complicato come dire spostarsi di casa per tanti motivi spero non economici anche perché abbiamo cercato di fare le cose davvero ridotte al minimo cercando di essere il più possibile attendi a non far pesare certe spese sulle finanze personali quello che dispiace invece nel corso dell'anno aver visto come vi sono ambiti interi mi riferisco magari a magari a persone che dicono anche di essere impegnate nella loro comunità che sono state però bellamente latitanti e questo denota forse una mancanza di demore alla chiesa di Ucesana che è di diritto divino a differenza della parrocchia del proprio gruppetto insomma quindi domani potranno sparire le nostre parrocchie i nostri gruppi i nostri movimenti e affeziazioni non sparisce la chiesa locale in cui c'è un vescovo che annuncia la parola c'è una comunità che spezza il pane eucaristico che si mette al servizio dei poveri e che in un territorio rende presente quella che è la vita stessa di Dio questa è la chiesa locale poi possiamo metterci a fare crisiologia anche di un certo livello ma questa è la chiesa locale tutte le altre sono forme transitorie importanti ma non sono mai come dire da mettere al primo posto rispetto al resto penso che insomma l'esperienza del piccolo gruppo che stiamo del piccolo greggio che stiamo vivendo soprattutto in questi anni debba essere un elemento che ci ridia più speranza non che ci faccia cadere né della facile autocommiserazione che spesso come dire è paralizzante rispetto ai tentativi di cambiamento né dall'altra parte nell'idea dell'autoesaltazione siamo rimasti noi pochi forti decisi noi siamo i migliori tutti gli altri devono essere convertiti magari domani con la forza della legge o con la ripristina della santa inquisizione questi tempi in ogni caso se sono mai esistiti sono passati quindi evitiamo di cadere in queste due tentazioni l'essere piccolo greggio significa essere felici di abitare questo mondo di portare la gioia del Vangelo di saperla anche comunicare proprio dall'esperienza che facciavano per prima formarci formarci insieme lasciarci accompagnare per poter essere voi compagni e compagni di viaggio dei nostri fratelli e sorelle nel cammino avrei voluto leggervi adesso proprio visto che l'abbiamo nominato come un convidato di pietra insomma il nostro Monsignor Repole volevo leggervi proprio un passaggio di questa lettera che lui ha scritta alla sua comunità che naturalmente poi lascerò fra i vari link che manderò a chi desidera farsi come dire riempire la casella di posta anche dalle comunicazioni che vengono dalla curia non sono tantissime massimo due al mese quindi tranquilli a un certo punto in cui lui richiama l'essere chiesa la prendo perché può essere un buon motivo di discernimento di esame personale aggiungo prima di leggere questo la fase che viviamo quella sapienziale è forse la fase più importante che possiamo approfondare in questo percorso sinodale non perché le altre non lo siano ma se abbiamo avuto anche delle defiance delle cadute nella fase principale dell'ascolto un buon discernimento ci aiuta anche a superare quell'aspetto perché il discernimento non si fa quando siamo già perfetti in partenza ma lo si fa pure quando siamo un po' ammaccati un po' sfasciati manchevoli per tante situazioni un buon tempo di discernimento una fase sapienziale permette anche a ciò che è ferito a ciò che è mancante di poter essere sanato di poter ricominciare a crescere poi magari verrà una fase profetica che non sarà chissà quanto esaltante perché ci renderemo conto di essere uomini e donne molto fragili molto come dire anche dal respiro breve dal passo corto non conta ma questa fase vi diamo con attenzione quella che davvero può sanare tante situazioni e può aprirci a tanto leggo dalla lettera rastralia di Monsignor Repole che poi naturalmente vi invito anche a leggere personalmente come comunità con il testo che ci farà supporto e completa anche la conferenza che purtroppo non abbiamo avuto che era stata affidata naturalmente ai responsabili di gruppo ma in un'ora e mezza non si può leggere tutto ci vuole tempo ci vuole e bisogna darsi tempo diciamo Monsignor Repole voglio indicare tre criteri di fondo per essere chiesa l'ascolto della parola di Dio viva e la formazione la centralità dell'eucaristia nel giorno del Signore la fraternità tra di noi che si espande a tutti coloro che incontriamo questi criteri presi insieme ci consentono di verificare che cosa è indispensabile ciò che conta davvero come si intitola questa lettera e come ci ricordavano anche Don Angelo e Don Alessio per essere autentiche comunità cristiane e allo stesso tempo di formulare modi diversi di essere comunità oltre che di strutturare legami efficaci e duraturi tra le comunità piccola chiosa se le cose si fanno insieme non le si fanno allo stesso modo le si fanno insieme perché poi ognuno esprime il suo pensare che ognuno esprime il suo non ha bisogno dell'altro significa che quella persona che esprime il suo non esprime più niente a un certo punto perché a un certo punto si muore quindi ricordiamo fare insieme perché poi ognuno ognuna possa fare meglio il suo perché ci sia una comunità cristiana numero uno è indispensabile che ci sia un ascolto costante della parola di Dio che non può essere di certo ridotto a una conoscenza biblica intellettualistica ma deve corrispondere a un ascolto di Dio che continua a parlarci in modo vivo e chiamarci costantemente alla fede in Dio e deve essere un nutrimento costante dal livello intellettuale a quello dell'orazione dalla fede dei credenti che spesso oggi se non viene elementata si perde o non è aderente alle trasformazioni della nostra esistenza ciò si può concretizzare in esperienze diverse catechesi per ogni età esperienze di preghiera lezio divina proposte di conoscenza biblica che poi portino a un dialogo personale e comunitario con il Signore che parla ma perché si possa parlare di comunità cristiana è anche indispensabile che ci si incontri nel giorno del Signore nella celebrazione eucaristica e che si viva la festa di questo giorno e di questo incontro è infatti in forza del dono del corpo di Cristo che noi diventiamo il corpo di Cristo che è la Chiesa questa è l'essenza dell'eucaristia noi ci cibiamo del corpo di Cristo per diventare quello che è il corpo di Cristo appunto il corpo di Cristo siamo noi la Chiesa e ci cibiamo del corpo di Cristo per diventare noi stessi questa è la logica che da Sant'Agostino in poi ricorda qual è la dinamica dell'eucaristia diciamocelo prima a noi diciamocelo perché spesso abbiamo anche noi un apporto con l'eucaristia che è estremamente individualistico quasi la devozione del 1600 e siccome questo è il tempo in cui piace guardare indietro quando tutto andava bene non è vero e allora guardiamo guardiamo al presente guardiamo all'eucaristia viva adesso perché il Signore risolto è presente non è il passato proseguo e infatti in forza del dono del corpo di Cristo che diventiamo il corpo di Cristo che è la Chiesa e ci bandoci di Lui che diventiamo una cosa sola con Lui e tra di noi e per rimanere quello che siamo abbiamo bisogno ogni domenica di nutrirci della vita che ci offre Cristo di fare esperienza della vita nuova che sgorga da quell'incontro di sperimentare che pur essendo diversi tra noi in Lui diventiamo una cosa sola il fatto poi che sia un presbitero a presidere l'eucaristia evidenza che tocca a Lui guidare la comunità cristiana e che la sua presidenza è indispensabile perché si possa parlare di comunità cristiana in senso pieno e questo ci dice la responsabilità grande che devono i presbiteri se non siamo noi capaci di celebrare di vivere bene l'eucaristia facciamo danno e questo poi si vede si vede nel concreto delle comunità insomma da ultimo infine ciò che nasce dall'ascolto costante della parola e della celebrazione eucaristica è una fraternità che deve essere reale nel senso che ci fa fare l'esperienza concreta è di sentirci in cammino con gli altri di percepirsi responsabili della loro fede e interpellati dai loro bisogni di qualunque genere essi siano dall'amicizia al problema economico questo per dirci di come il valore sociale del nostro essere chiesa nasce lì dal fatto di prenderci quella degli altri e questo magari trasforma anche concretamente i problemi che abbiamo oggi da affrontare di sentire che noi stessi siamo oggetto di cura e di attenzione reale da parte di altri e costruiti dai fratelli nella fede non solo questa esperienza di fraternità così necessaria in un mondo individualista è l'unica vera anima è l'unico vero motore di un'attività creativa e sociale te la lascio l'ultima riga in ogni caso perché ci siamo in qualche modo capiti ringraziamo il Magisterio dei nostri Vescovi Don Roberto Rebole che ci manda questa lettera mandando la sua comunità il nostro Orcivescovi e tutti i nostri pastori a partire da Papa Francesco che poi non a caso torna a annunciare in questi giorni anche che continua la riflessione sull'ecologia integrale con una seconda parte della laudato sì in ogni caso di nuovo non l'abbiamo dimenticata l'ecologia integrale l'orizzonte su cui cammina la pastorale riscopriamola e viviamola partire anche dalle occasioni che ogni anno abbiamo proprio in questo mese di settembre tempo del creato e che come vedete anche dall'agenda vivremo in maniera comunitaria la prossima domenica 17 settembre alle ore 17.30 circa a Castelfrentano per poter avere una celebrazione vissuta all'aperto e vissuta come un momento di riflessione sulla giustizia e sulla pace che il Signore fa scorrere come acqua sul nostro mondo prendiamoci cura di questa realtà di questa dimensione perché si tratta di vivere il Vangelo in questo tempo e questo che ci verrà chiesto un giorno quando avremo da confrontarci col Signore a termine della nostra vita non ci si chiederà come diceva Martin Duber se siamo stati Mosè o Elia ma ci si chiederà se siamo stati e lui non mette il proprio nome perché quello è il compito che il Signore ci ha affidato aggiungo un'ultima cosa se scorrete l'agenda pastorale vedete che uno degli ultimi impegni il prossimo anno sarà la settimana sociale dei cattolici anche la dicitura è cambiata non la settimana sociale dei cattolici in Italia non più dei cattolici italiani ma dei cattolici in Italia perché i cattolici non sono solo italiani di origine ma lo sono anche perché sono in questo paese come al solito l'immigrazione e il mediciamento possono essere un problema ma sono anche sempre una risorsa in vista di questo appuntamento di Trieste che sarà la cinquantesima settimana sociale dei cattolici c'è un documento presentato il primo luglio in cui si cerca di ritrovare il gusto della democrazia mi permetterò di girare a chi lo desidera anche questo documento perché nel cammino sinodale sarà importante anche riscoprire la formazione alla vita sociale e politica in questo tempo e mi riferisco agli ultimi 30 anni almeno ancora più necessario perché dico questo perché 30 anni fa la prima settimana sociale che ripartì dopo la pausa degli anni 70-80 era sulla democrazia oggi sfide e problemi quindi come dire 30 anni e dobbiamo ricominciare un'altra volta penso che sia un luogo importante questo della formazione a essere per citare Don San Giovanni Bosco buoni cristiani e bravi cittadini sarà importante ancora di più riprendere anche queste attenzioni perché la democrazia nasce anche dall'ispirazione comunitaria al Vangelo non è un caso che viviamo male le nostre comunità e viviamo in un paese che è in crisi di democrazia forse perché noi cristiani vivendo male la nostra comunità che è la chiesa abbiamo dimenticato di prenderci guarda di quella comunità che è la casa comune prendiamoci come supplemento di impegno in questa formazione di quest'anno e io la prendo come ultima cosa che vi dico e che condivido con ciascuno di voi grazie prima di lasciare a voi la parola per qualche intervento intanto volevo ancora ringraziarvi ma soprattutto darvi anche una notizia molto bella per la nostra chiesa locale perché il 15 di ottobre domenica alle ore 18 nella cattedrale di Lanciano con l'aiuto di Dio avremo una ordinazione sacerdotale Mattia primante della comunità di Tollo diventerà presbitero a voi per a voi per interagire siamo nei dieci secondi come diceva don Alessio cerchiamo di fare anche interventi nell'arco dei dieci secondi nel senso non fate conferenze esprimete in modo sintetico quello che avete da dire c'è un microfono volante per cui diventa semplice poter intervenire se qualcuno fa il valletto o la valletta senza che l'operatore debba farlo lui chi si offre per farlo grazie Padre Giuseppe grazie a tutti grazie a tutti buongiorno a tutti io volevo fare un intervento perché ieri sentendo l'introduzione del vescovo soprattutto oggi con gli altri interventi mi sono sorte alcune riflessioni e quindi volevo esporle quello che ho percepito che questo cammino sinodale mi sembra mi sembra molto in orizzontale non c'è la parte verticale quello che è come la croce che è una parte orizzontale e una parte verticale quindi manca proprio una parte e quindi la mia sensazione è che manca proprio la parte principale che è quella del Signore e dove dove vedo che manca è la parte dell'orazio per quello che ho letto tra i documenti che ho potuto avere la capacità di poter leggere su questo percorso non ho trovato la parte della dell'orazione mi viene in mente un aneddoto che ieri appunto mi veniva in mente ed era probabilmente magari la conoscete quella di madre Teresa di Calcutta che aveva l'abitudine con le consorelle di fare due ore di orazione davanti al tabernacolo tornata da un viaggio le consorelle gli dicono abbiamo molto più lavoro madre quindi siamo molto più impegnate sono arrivati nuovi ospiti e quindi non possiamo più fare due ore ma dobbiamo ridurre allora la madre dice se abbiamo più lavoro dobbiamo aumentare le ore di adorazione se ne facciamo due da oggi in poi ne faremo cinque e questo credo che la chiesa che siamo noi ovviamente deve mettere credo più in pratica se abbiamo un problema dobbiamo tornare al fulcro quindi la preghiera è credo che sia la base anche perché ieri con Emmaus abbiamo visto il percorso dei due discepoli dopo l'ascolto della parola hanno pregato hanno spezzato l'equoressia e poi sono andati a evangelizzare quindi senza questo c'è una mancanza e poi riguardo a un altro punto magari sono troppo a lunga un altro punto sul discorso delle strutture che io questa cosa per esempio mi è sembrata molto strana cioè ieri l'ho sentita che mi è stata una novità lo stesso che cosa manca la vocazione cioè abbiamo mancanza di vocazione non vedo nella parte sinodale un progetto che riguardi la vocazione dove insomma senza questa a livello vocazionale un progetto a livello vocazionale la vocazione sacerdotale del ministero certo perché questo no ovviamente anche negli altri ambiti ma credo che quella della sacerdote come sapete è la quella più evidente che sta a un calo eccessivo ecco anche perché si sta restringendo anche il discorso e quindi questo era il mio intervento un attimo così cerchiamo di tenere presente tutte le situazioni che si presentano proprio l'icona scelta ci dice che la parte spirituale è tenuta in ampia considerazione proprio perché è l'icona di Emmaus che ci mette in evidenza come i discepoli sapevano tutto ma non sapevano di quello che avevano sperimentato come ha detto Don Alessio c'era il sapere ma non c'era il sapere e ve lo ho ribadito ieri Gesù partendo da Mosè cioè recuperando la luce dello Spirito Santo la luce della parola sulla storia scalda loro il cuore fa ardere loro il cuore e poi c'è lo spezzare il pane dell'Eucarestia che permette loro di affrontare la notte come questa volta veri testimoni di Cristo morto e risorto ma credo che questo sia stato evidenziato in ogni direzione nel mio intervento di ieri così come anche nell'intervento di oggi che ha fatto Don Angelo dove il giorno del Signore e il guardarsi in faccia della Chiesa cercando anche una disposizione diversa dei banchi chiedendo anche una partecipazione diversa nello spezzare la parola cercando di dire che le preghiere dei fedeli non devono essere quelle dei foglietti ma partecipate eccetera stanno evidenziando la necessità di questi momenti che nessuno ovviamente vuole mettere tra parentesi seguendo Gesù l'uomo perfetto ci facciamo anche noi più uomini ma Gesù lo sperimentiamo nell'ascolto della parola nella nello spezzare del pane ma anche nell'essere due o tre riuniti nel suo nome in ambienti che potrebbero anche non essere quelli fisici della Chiesa come Don Angelo ci ha fatto riflettere ma anche altri ma sempre avendo in mezzo il Signore il percorso della lezione divina e della formazione che Don Carmine ci ha presentato ci ha ridetto con ancora maggiore evidenza il bisogno e la necessità che questa Chiesa locale sente di spezzare la parola e di muoversi alla luce della parola e l'invito che Don Carmine ha fatto a che le singole parrocchie e le zone pastorali diano continuità all'elezio divine del Vescovo va in questa direzione esiste nella città di Lanciano un luogo dove si fa adorazione se non permanente perlomeno prolungata esiste nella città di Ortona una Chiesa dove si fa adorazione perlomeno prolungata se non permanente poi sta anche alle singole parrocchie organizzare i momenti di preghiera di adorazione o di altro genere che pensano siano necessari per dare anima alla vita chiaramente questa è una assemblea diocesana il momento della preghiera c'è all'inizio c'è alla fine c'è come filo rosso in tutto quello che si dice va poi ovviamente cercato di vivere anche nelle singole realtà quello delle strutture come già vi accennavo io ieri ma come anche Don Angelo ha fatto in un qualche modo emergere è un problema che ci dobbiamo porre da un lato perché non è la struttura materiale che fa la chiesa per i primi tre secoli non c'erano le chiese e la chiesa era vivissima gli atti degli apostoli ci dicono che si riunivano lungo i fiumi piuttosto che nelle case delle persone nelle famiglie che diventavano perciò domus ecclesie casa e chiesa ci sono stati altri momenti in cui per vari motivi si è fatto a meno degli edifici materiali quindi da una parte per dire che non sono fondamentali ma dall'altra come è emerso perché queste strutture se noi non stiamo attenti ci seppelliranno ci seppelliranno ci seppelliranno perché per mantenere le strutture che abbiamo noi corriamo il rischio di non guardare le esigenze delle persone quindi avremo muri perfetti casomai non è sempre così ahimè per vari motivi avremo casomai muri perfetti ma le pietre vive no? come ci invitava ad essere il Vangelo di domenica scorsa quello di domani eccetera potrebbero mancare ecco in questo senso forse poi il momento della preghiera diventa fondamentale ma perché ci siano le pietre vive poi se qualche edificio lo dobbiamo riconvertire in un qualche modo e se sarà necessario lo si farà come è sempre successo nell'arco dei secoli per chiese anche ben più importanti di quelle che abbiamo noi però ecco le strutture servono ma servono finché servono poi si tengono nel miglior modo possibile cercando di valorizzarle anche per altro se non ci si può celebrare più perché in un senso di riscoperta del giorno del Signore e dell'importanza della celebrazione dell'Eucarestia in cui bisogna guardarsi in faccia e crescere come assemblea che celebra di cui il sacerdote è presidente dove il coro con l'assemblea non sull'assemblea eccetera eccetera le cose che Don Angelo ha detto dovremmo pure cominciare a interrogarci se mantenere l'altissimo numero di celebrazioni eucaristiche è di aiuto a questo oppure se è di ostacolo no? perché un prete che dovrà dire quattro o cinque messe arrivato alla quinta messa della sera alla sua assemblea non fa un buon servizio di presidenza quindi forse se ci stanno dieci chiese in cinquecento metri se si riducono 60 messe che si dicono nella città di Lanciano a 30 probabilmente facciamo un servizio alla rivalutazione della preghiera e della eucaristia come fonte e culmine della vita di ogni credente però passo dopo passo sentiamo la signora questa riduzione ci sono le chiese che si stanno si stanno svuotando un po' perché questa società ci porta lontani da Dio infatti delle statistiche dicono che dicono che solo il 15% e neanche poi parlando con le persone del 15% e se gli vai a parlare di Vangelo della radicalità del Vangelo ti prendono per per estremista per quello e quell'altro quindi il Vangelo deve essere messo al primo posto infatti Gesù ha detto io non sono venuta a cambiare la legge neanche uno iota della legge l'ha cambiato ho cambiato scusate sono emozionata e mi ha colpita come funzionerà questo sinodo che che alla fine sarà valutato per buono tutte le pastorali le persone che diranno la sua io una diecina di anni fa nella mia parrocchia venne a conoscenza delle persone che formavano la pastorale senza offendere nessuno perché non so se qua ci sono perché io una diecina di anni fa venne a conoscenza dei nomi delle persone che formavano la pastorale non ce n'era uno che frequentava la chiesa erano persone che non credevano due le conoscevo proprio ci parlavo quindi la domenica non si vedevano mi parlavi di Dio ti rilevano quasi dietro e io temo tanto che se diamo troppo la parola ai laici ai laici in genere perché questa società tende ad andare lontano da Dio non vicino anche noi che siamo presenti nella chiesa e quindi io temo tanto che alla fine non sarà una chiesa migliore chiedo scusa se dico questo un piccolissimo passaggio se lo ritrovo a volo però quello che diceva che era partecipazione non democrazia cioè non è che stiamo a fare delle assemblee politiche o condominali stiamo cercando di vivere come popolo di Dio e il popolo di Dio l'ha stabilito Gesù non è che lo stabiliamo noi e chi ci deve partecipare le patenti di chi ci deve partecipare o di quello che si deve fare non le diamo noi con Pietro sotto Pietro mai senza di lui mai contro di lui abbiamo letto ieri nel documento che ci è stato consegnato facciamo tesoro di quello che la chiesa ci dice di cui noi facciamo parte è abbastanza paradossale che da una parte i laici rivendicano partecipazione e poi dall'altra a volte vediamo che i laici diventano più clericali dei preti perché vogliono che siano i preti a guidare a fare a prendere le decisioni a indicare i percorsi come se loro non lo potessero fare ognuno ha il suo carisma ognuno ha la sua chiamata che è specifica per ognuno ma che è comune che è quella della santità e il vero cambiamento d'epoca che noi dobbiamo realizzare è questo quello di muoverci come assemblea come chiesa perché questo ci chiede il Signore dicendoci pure che ognuno di noi ce lo ricorderà il profeta Ezechiele nella prima lettura di domenica prossima non di domani quella del 10 e il Vangelo di Matteo che ognuno di noi è chiamato ad essere sentinella di suo fratello e ad essere angelo di suo fratello perché nella Bibbia nel 99,9% dei casi gli angeli non sono quelli con le ali che sono andati da Zaccaria nel Tempio o da Maria Santissima a Nazareth ma sono i fratelli e le sorelle che si fanno mediatori e mediatrici della parola di Dio e della presenza di Dio nella storia degli uomini casomai aiutandoli a discernere perché poi discernere significa usare il setaccio come ci ha con l'immagine dei ceci ricordato Don Angelo e questa cosa la dobbiamo fare insieme non temiamo di andare anche su strade che prevedano equilibri precari perché perché pure quando camminiamo noi facciamo così c'è un piede che sta fermo e uno che si alza se noi manteniamo tutti e due i piedi fermi perché se no a Dio cadiamo non andiamo da nessuna parte ci vuole un piede che sta fermo ma uno che si alza e fa il passo perché così quello che stava fermo a sua volta si potrà alzare e fare un altro passo mentre quello che era in movimento intanto si è messo fermo credo che questo dobbiamo cercare di fare e siamo chiamati a fare fra l'altro prima mi ero dimenticato attenzione a ridurre il discorso delle vocazioni solo a quelle presbiterali e alla vita religiosa o consacrata di speciale consacrazione come diciamo noi poniamoci ma seriamente il problema che non solo non c'è più nessuno che si fa prete frate o suora non c'è più nessuno che si consacra ma non si sposa più nessuno la crisi alla vocazione matrimoniale e familiare è secondo il mio punto di vista sarà la deformazione di tanti anni di pastorale familiare più grave di quella dei sacerdoti più grave credo che sia la vera emergenza della chiesa e della società perché non solo non ci si sposa nel sacramento ma non ci si proprio sposa nemmeno civilmente quella situazione individualistica che Don Carmine denunciava a proposito dell'eucarestia la vediamo anche nelle vocazioni io sto con te finché mi conviene a me poi tu per la tua strada io per la mia strada non c'è più la dimensione della comunità che da parte di tutti è immersa secondo me se questo sinodo ci porta a riscoprire la dimensione comunitaria alla luce della parola di Dio con l'eucarestia fonte e culmine della vita di ogni credente e di ogni comunità noi allora avremo fatto bingo perché mantenere alcune cose perché si facevano ieri o l'altro ieri o 50 anni fa o 500 anni fa non funziona più a tutte le parti no? cioè io dico se voi andate dal vostro medico e vi prescrive medicine che usava 100 anni fa e che oggi non sono più nemmeno in commercio voi vi arrabbiate con lui e gli dite scusami Dottoma siamo nel 2023 no? aggiorna io non ci vengo più da te cambio medico certo certo però ricordiamoci una cosa piccola 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 di Vangeli noi ne teniamo quattro quattro teniamo quattro Vangeli per lo stesso Vangelo immaginiamoci 2023 anni dopo non è che dobbiamo fare 2023 Vangeli ma dobbiamo tener conto della situazione delle persone delle situazioni delle circostanze perché annunciare il Vangelo a Lanciano non è la stessa cosa che annunciarlo nel nord dell'Italia o nel profondo sud dell'Italia e anche l'Abruzzo che una volta si chiamavano gli Abruzzi forse non a caso anche l'Abruzzo ha le sue diversità e annunciare il Vangelo a Pescara non è la stessa cosa che annunciarlo in un paese dell'Alto Vastese bisogna inculturare il Vangelo l'ha fatto Gesù l'ha fatto Gesù l'ha fatto San Paolo l'ha fatto San Pietro cioè il Vangelo di Marco è stato scritto per alcune persone e ha una caratteristica quello di Matteo è stato scritto per altre persone ha altre caratteristiche quello di Luca e quello di Giovanni ugualmente poi è il Vangelo di tutti ovviamente perché le lettere le prime comunità se le scambiavano in modo tale che il patrimonio diventasse patrimonio comune dobbiamo fare anche noi così sì 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 certo certo assolutamente ma Gesù Gesù ha detto che lui non è venuto a togliere nulla come lei stessa ha citato ma ha portato a compimento e appunto pieno compimento della legge è l'amore quindi i dieci comandamenti dieci comandamenti sono nel libro dell'Esodo nel libro del Deuteronomio sono nell'Antico Testamento se noi non mettiamo lo specifico del Vangelo forse i dieci comandamenti sono troppo poco perché le otto vie del buddismo che come sapete è una filosofia nemmeno una religione non differiscono poi moltissimo dai dieci comandamenti come i testi legislativi del diritto romano non differiscono moltissimo dai dieci comandamenti noi abbiamo lo specifico di Cristo quello dobbiamo portare che ha preso tutto il vecchio non ha tolto nulla vi fu detto ma io vi dico no? fino ad allora andava bene così quello rimane ma attenzione c'è un surplus da fare no? non commettere adulterio valeva prima di Gesù e vale pure oggi mo' vale pure che se tu guardi una donna per desiderarla hai commesso adulterio nel tuo cuore nell'Antico Testamento questo non c'era scritto no? faccio questo esempio perché è proprio eclatante non so se voi fratelli volete aggiungere tanto buongiorno a tutti sono Elisabetta Bocchini insegnante di religione volevo ringraziarvi innanzitutto tutti quanti per gli input e per le suggestioni che ci avete dato e volevo dire solo questo avvicinati volevo dire solo questo forse non è venuto fuori l'importanza di riscoprire il fatto che ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo e che questa verticalità e orizzontalità forse devono camminare e camminano insieme e questo mi è sembrato di capire di questa sinodalità riscoprire quindi la bellezza della nostra vocazione siamo tutti re, sacerdoti e profeti e quindi camminare insieme guardandoci in faccia forse è il momento di togliere i muri degli incontri appunto dei catechisti dei ragazzi degli adulti di questo e di quest'altro come suggeriva il Vescovo forse meno messe potrebbero aiutare a essere più presenti e riscoprire la bellezza di potersi contaminare perché i ragazzi ci possono insegnare molto come le persone anziane gli adulti possono insegnarci molti come i catechisti come i sacerdoti quindi riscoprire di essere un corpo solo e un'anima sola mi fa piacere che quest'anno saranno gli atti degli apostoli perché forse potremmo riscoprire non aver paura di guardarci in faccia senza giudicare perché Gesù penso che ha insegnato questo imparare ad amarci per quello che siamo accogliendoci con i nostri limiti sapendo che qualcuno ci può aiutare a crescere dove i nostri limiti in qualche modo ci limitano scusate il e carestia non la prendo per me la prendo per i miei ragazzi per le famiglie dei miei ragazzi per i sacerdoti per quelli che anche so che falsamente magari mi fanno una bella faccia davanti e dietro magari sparlano e sparlano perché siamo abituati noi cristiani per primi a non dare testimonianza e a non chiudere come dice Padre Francesco le nostre lingue e a mordere la nostra lingua e a pregare per tutti nel silenzio non abbiamo bisogno solo della chiesa fisica riscoprire le nostre chiese domestiche per quanto siano con le crepe perché ognuno della nostra famiglia ma la crepa è un'opportunità perché nella crepa nella sofferenza noi possiamo scoprire l'amore di un padre che non ci abbandona grazie questo è sempre importante poi dobbiamo tener conto che questa è un'assemblea diocesana non è tutta la chiesa e ogni volta che si fa qualcosa chiaramente si mette in evidenza un aspetto che non può essere la presenza di tutti gli aspetti se ne privele già uno perché in quel momento si va in quella direzione ma tutti gli altri sono assolutamente presenti la doppia dimensione della preghiera la preghiera personale la preghiera comunitaria tutti quanti la conosciamo e tutti quanti dobbiamo cercare di viverla quando vuoi pregare il padre tuo entra nella tua camera chiudi la porta e prega il padre tuo nel segreto il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà però la dimensione comunitaria è altrettanto fondamentale Cristo l'ha assolutamente voluta ci vuole l'una e ci vuole l'altra non va bene solo l'una e non va bene solo l'altra poi tanti discorsi certe volte effettivamente non servono mi riviene in mente Filippo quando dice a Natanaele abbiamo trovato il Messia da dove viene? da Nazareth può avvenire qualcosa di buono da Nazareth? no Filippo non comincia a discutere con Natanaele se da Nazareth può avvenire o no ma guarda fatto questa fatto quell'altra gli dice semplicemente vieni e vedi ecco se noi riuscissimo a fare questo forse saremmo sentinella dell'altro saremmo capaci di correzione fraterna e costruiremo chiesa l'ho trovata la frase c'è un'intima relazione fra celebrazione eucaristica e cammino sinodale non è solo un'analogia unire due momenti eucaristia e sinodo si celebrano entrambi ma una co-implicazione tale che si potrebbe definire l'assemblea eucaristica un sinodo concentrato e il cammino sinodale un'eucaristia dilatata questa intima relazione orienta nella comprensione delle categorie sinodali non si tratta tanto di democrazia quanto di partecipazione non solo di raduno di gruppo ma di un'assemblea convocata non di esprimere semplici ruoli e funzioni ma doni e carismi nel cammino sinodale come nella celebrazione eucaristica il popolo radunato vive l'esperienza della grazia che viene dall'alto in quella partecipazione definita actuosa cioè fruttuosa dal concilio vaticano secondo quindi capace di coinvolgere nella celebrazione comunitaria ecco perché proponiamo in questa fase il racconto di Emmaus è lì infatti in quell'incontro della sera di Pasqua il senso di questa seconda tappa del cammino da quell'incontro deduciamo i criteri fondamentali per il discernimento operativo della fase sapienziale Luca rilegge in questa pagina la fede pasquale alla luce dell'esperienza eucaristica ormai cinquantennale quando lui scrive il Vangelo e viceversa rilegge l'esperienza eucaristica alla luce della fede pasquale ecco quindi nessun timore che la parte verticale non ci sia è proprio il cuore è tutto vorrei condividere la mia gioia o piacere di stamattina a me è piaciuto tantissimo le similitudini che i nostri relatori che hanno usati e battere i ceci poi zoccolo duro di fatti la società di oggi la comunità di oggi la chiesa il popolo la comunità tutto e sono elementi molto duri quindi questo ci richiama a lavorare solo con tutto il nostro impegno con tutta la nostra buona volontà e anche altre similitudini e stampecchi che cercano il sale e tutte queste cose ci fanno riflettere oggi anche in questa dura situazione cosa possiamo fare anche accendere un fiammifero diventare almeno un mattone e tanti livelli nel nostro piccolo possiamo fare allora noi tutti saremo umili operai del Signore e costruttori dell'edificio della Chiesa vorrei sì condividere questo 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 mio parere a tutti quindi impegniamo con tutta la nostra sincerità con tutta la nostra buona volontà con tutta la nostra mente grazie velocissimamente grazie non ho potuto partecipare per un motivo serio le ultime due ore sono stato qua volevo dire questo a proposito dei laici dell'intervento che ha fatto la Signora ma in genere anche se non ci fosse stato quell'intervento a proposito dei laici ma anche degli atei che lavorano con la Chiesa diceva una grande santa che chi cerca la verità cerca Dio il problema è che oggi non si sa dove cercare la verità e se noi non gliela indichiamo con la nostra vita si rimane così però vi assicuro l'esperienza fatta in questo anno con almeno tre persone che una volta ha trovato parlo di tre atei dichiarati che tra l'altro si vergognavano di essere atei mi hanno chiesto è un problema se io lavoro con voi e sono ateo ma assolutamente no una volta trovata l'accoglienza della Chiesa non mia o di altri della Chiesa che hanno capito che erano nella Chiesa sono rimasti lì hanno trovato la loro casa questo ve lo assicuro grazie 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 anche a te ok allora ci avviamo a concludere perché si sta facendo tardi voi dovete ritornare avete il foglietto delle preghiere in mano un ultimo momento per chiudere proprio nel nome del Signore un secondo solo ricordo che è disponibile l'agenda qui sopra chi vuole passandola può prendere per portare nella propria agenda personale chi non ha dato già i suoi dati personali e vuole ricevere informazioni può lasciarmi i dati personali email e telefonino qui sul foglio che è qui a fianco grazie nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo benedetto sei tu dio creatore e padre dell'universo tu hai fatto belle tutte le cose segno e impronta della tua bontà hai soffiato sulle acque il tuo alito di vita e hai fatto dei venti i tuoi messaggeri hai plasmato la terra in forma deserta con i colori dei fiori e con i frutti degli alberi l'hai resa casa per le tue creature terrestri e alate hai fatto del mare uno scrigno abbondante di vita e biodiversità specchio di identità e ponte di dialogo e accoglienza fra le sponde della terra tu hai affidato all'uomo e alla donna tue amate creature perché attraverso il lavoro custodissimo l'immensa opera della creazione quando noi dimentichiamo questa vocazione sfiguriamo la natura e le infliggiamo ferite che si ritorcono contro l'umanità torni padre il tuo spirito a ridare giovinezza e vitalità volto di questa terra solcato da stanchezza e al nostro cuore indurito dal peccato la tua chiesa avvolta dallo spirito di pentecoste sappia accogliere il grido della terra e dei poveri affinché unita alla passione di cristo riceva dal risorto la gioia generativa della vita nuova e si offra pompromotrice di giustizia e di pace per tutti nella cesta della nostra fragilità insieme ai frutti della terra e del nostro lavoro tuo dono e segno della tua generosità che mai viene meno deponiamo il nostro impegno a riconoscerci tutti fratelli e sorelle affinché si manifesti il nostro essere figli e figlie nel figlio Gesù in profonda comunione con te padre benedetto nei secoli il signore sia con voi sia benedetto il nome del signore il nostro aiuto è nel nome del signore vi benedica Dio onnipotente padre e figlio e spirito santo la gioia del signore sia la nostra forza glorifichiamo il signore con la nostra vita e andiamo in pace grazie e alla prossima grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti.